capitolo 4 twiddledam e twiddledi erano in piedi sotto un albero tutti e due con un braccio che passava dietro al collo dell'altro e alice capì subito chi fosse l'uno e chi fosse l'altro perché uno aveva dam ricamato sul colletto e l'altro di immagino che dietro ci sia scritto tuidol sul colletto di tutti e due disse alice tra sé e sé se ne stavano così dritti e fermi che alice si dimenticò che erano vivi e stava già per andare a vedere se dietro avessero la parola twiddled scritta sul colletto quando una voce la fece sobbalzare proveniva da quello segnato dam se pensi che siamo fatti di cera disse devi pagare il biglietto le statue di cera non le fanno mica perché la gente le guardi gratis non si dà alcun modo possibile a dirla alla rovescia aggiunse quello segnato di se pensi che siamo vivi devi dire qualcosa vi assicuro che sono molto dispiaciuta con tutto quello che alice riuscì a dire infatti continuavano a tornarle in mente le parole della vecchia canzone insistenti come il tichettio di un orologio e a stento poteva evitare di ripeterle a voce alta voglio un fare aspro duello twiddledam e twiddledì non gli dà il sonaglio bello twiddledam a twiddledì ma un'enorme cornacchia tanto li spaurisce sbucando da una macchia che la lite finisce lo so a cosa stai pensando disse twiddledam ma non è così non si dà in alcun modo possibile per dirla alla rovescia aggiunse twiddledì se fosse così lo sarebbe se era così lo potrebbe essere ma dato che non è così allora non lo è è la logica stavo pensando disse alice con molto garbo quale può essere la strada migliore per uscire dal bosco si sta facendo buio volete indicarmela voi per piacere ma i due ometti grassocci si limitarono a guardarsi in faccia l'un l'altro e a sorridere tutte e due avevano talmente l'aria dello scolaro all'ultimo anno di scuola che alice non poteva fare a meno di puntare il dito su twiddledam e di esclamare prima tu non è possibile replicò twiddledam in modo spiccio e richiuse la bocca con uno schiocco poi tu disse alice passando a twiddledì e che fosse più che sicura che quello avrebbe gridato alla rovescia come infatti fece hai sbagliato tutto fin dall'inizio esclamò twiddledam quando si va in visita prima di tutto si dice come state e poi si stringono le mani e qui i due fratelli si scambiarono un abbraccio e poi tesero ciascuno la mano che aveva libera per stringere quella di alice alice non sapeva a quale dei due stringere la mano per primo per paura di urtare i sentimenti dell'altro e allora come unica soluzione per togliersi dal dilemma strinse tutte e due le mani contemporaneamente un istante dopo stavano ballando tutti e tre in tombo la cosa parve perfettamente naturale ricordò alice in seguito e non fu sorpresa di sentire che c'era anche una musica che alleggiava intorno e che sembrava provenisse dall'albero sotto il quale stavano ballando poteva essere prodotta per quel che ne sapeva alice dai rami che si sfregavano l'uno contro l'altro come archetti sul violino certo però fu buffo disse alice in seguito quando raccontò alla sorella l'intera storia trovarmi a cantare su balliamo attorno all'albero di gesso non so quando cominciai ma chissà come mi sembra di averla cantata per un tempo lunghissimo gli altri due ballerini erano grassocci e rimasero presto senza fiato quattro giri bastano per un ballo anzi motui l'oldam e interruppero il ballo di colpo così come l'avevano cominciato la musica cessò nello stesso istante poi lasciarono andare le mani di alice e rimasero a guardarla per un minuto fu una pausa piuttosto imbarazzante perché alice non sapeva come si fa ad avviare la conversazione con le persone con le quali si è appena smesso di ballare se lo dico adesso come state non va bene diceva fra se e se dovremmo aver già superato questo stadio spero che non siate troppo stanchi disse infine non si dà in alcun modo possibile e grazie tante per l'interessamento lui disse tu do il dam grazie infinite soggiunse tu do il dì ti piacciono le poesie sì abbastanza certe poesie rispose alice dubbiosa volete indicarmi la strada per uscire dal bosco che poesia le recito chiese tu do il dì poggiandosi a guardare tu do il dam con i grandi occhioni solenni e senza far caso alla domanda di alice il tricheco e il carpentiere è la più lunga rispose tu do il dam dando un affettuoso abbraccio al fratello tu do il dì incominciò immediatamente il sole risplendeva qui alice si azzardò a interromperlo se è molto lunga disse volete indicarmi prima la strada più dal dì fece un sorriso gentile e ricominciò il sole risplendeva alto sul mare splendeva forte forte cercava più non posso di tirare lì se è lucida l'onda il che era un fatto mica male strano poiché era notte fonda la luna splendeva imbronciata quel sole scimunito non era mestier suo restare lì proprio a giorno finito che sgarbato sbuffava tutto il bello ormai se nel suo nito il mare era bagnato più che mai secca la sabbia lei non si vedeva una nuvola infatti nuvola non c'era nessun volo nel cielo perché uccelli in aria non ce n'era il tricheco accoppiato al carpentiere passava per di là piangeva nel veder di quella sabbia l'enorme quantità se sol si potesse spazzarla via somma felicità ma sette ragazze con sette scope sei mesi a lavorare disse il tricheco tutta questa spiaggia la possono spazzare ne dubito dispose il carpentiere e giù lacrime a mare e ostri che belle il tricheco implorava solo una passeggiata una bella chiacchierata venite sulla spiaggia assolata venite su con noi a quattro di voi la mano sarà data un'ostrica vecchissima aprì gli occhi non fece un'obiezione poi l'ostrica vecchissima ammiccò scosse molle il testone il senso era che non lo lascia l'ostrica il suo lettone ma quattro strichette giovani e liete accorrono impazienti grembiule stirato faccia pulita e scarpette lucenti strano perché ci piedi delle ostriche non si sa proprio niente oltre quattro stricotti usciron fuori e poi ancora quattro tante e tante ne venivano ancora ma sempre a quattro a quattro a salti a balzi a balzelloni ostriciando carponi tricheco e carpentiere all'or si fanno un chilometro buono e si siedono infine sopra un sasso perché là stanchi sono le ostrichele allineate per benino cerca di darsi un tono noi parleremo all'or di quelle cose che sono fondamentali disse il tricheco di cavoli e re di avi e di stivali se il mar non scotta forse un poco troppo se i porci hanno le ali va piano protestarono le ostriche su via che esagerato non vedi siamo tutte grassottelle qualcuna è senza fiato sì disse il carpintiere non c'è fretta e venne ringraziato prima il pane calcolava il tricheco ne tagliamo una fetta poi il pepe e due gocce di limone strizzate senza fretta possiamo incominciare anche a mangiare la cena che ci aspetta chi vi aspetta vogliamo ben sperare di non venire mangiate e basta con gli scherzi esclamarono le ostriche agghiacciate che bella nottata disse il tricheco che stellata guardate quanto siete belle e che gentili siete venute in molte ma il carpintiere evitò che le sue parole fossero a loro rivolte taglia un'altra fetta sei sordo te l'ho detto due volte ho quasi vergogna disse il tricheco un simile tranello farle correre e sudare fino a qui non mi par punto bello ma il carpintiere si limitò a dire col burro usa il coltello piango con voi si legnava il tricheco per solidarietà ma le più grosse tra singhiozzi e lacrime l'aveva mangiate già tirando il fazzoletto sopra gli occhi per sensibilità ostri che bella disse il carpintiere è tardi è a bruna vogliamo tornarsene a casa di buon passo non ne rispose alcuna niente di strano le aveva mangiate tutte una per una mi è più simpatico il tricheco disse Alice lui era almeno un po' addolorato per le povere ostriche però ne ha mangiate di più del carpintiere osservò tui doldi si teneva il fazzoletto davanti in modo che il carpintiere non potesse tenere il conto di quante ne mangiava per dirla alla rovescia che perfidia sclamò Alice indignata allora mi è più simpatico il carpintiere se non ne ha mangiate tante quanto il tricheco ma ha mangiato tutte quelle che è riuscito a prendere osservò tui doldam c'era di che pensarci sopra dopo una pausa Alice cominciò dunque erano tutte e due dei personaggi molto sgradevoli qui si interruppe piuttosto allarmata avendo sentito un rumore simile allo sbuffare di una grossa locomotiva che proveniva dal bosco ma che temeva fosse quello di una bestia feroce ci sono dei leoni o delle tigri qua in giro chiese timidamente oh è soltanto il re rosso sta russando spiegò tui doldi vieni a vederlo gridarono i due fratelli e prendendo ciascuno a una mano di Alice la portarono a vedere il re che dormiva non ti por bello disse tui doldi ma Alice non poteva onestamente dire che lo fosse aveva in testa una lunga berretta da notte rossa che finiva con una nappa e se ne stava tutto raggomitolato come una specie di fagotto in forme e russava forte finirà per diventare sordo a furia di russare a quel modo osservò tui doldam ho paura che si prenderà un raffreddore a starsene sdraiato sull'erba umida disse Alice che era una ragazzina molto giudiziosa sta sognando disse tui doldi secondo te cosa sogna Alice rispose e chi può saperlo ma come sta sognando te escrivò tui doldi battendo le mani trionfante e se smettesse di sognarti dove pensi che saresti dove sono adesso naturalmente rispose Alice no tu no replicò tui doldi in paono sprezzante tu non saresti da nessuna parte tu sei soltanto una specie di cosa dentro al suo sogno se quel re che tu vedi lì aggiunse tui doldam dovesse svegliarsi tu spariresti di colpo puff via come una candela non è vero escrivò indignata Alice e inoltre se io sono soltanto una specie di cosa dentro al suo sogno che cosa siete voi allora mi piacerebbe saperlo idem come sopra disse tui doldam idem come sopra idem come sopra gridò tui doldi gridava così forte che Alice non poteva fare a meno di dire zitti finirete per svegliarlo se continuate a fare tutto questo chiasso è inutile che parli tanto di svegliarlo disse tui doldam quando sei soltanto una delle cose dentro il suo sogno tu sai benissimo di non essere vera io sono vera riplicò Alice e scoppiò a piangere piangendo non diventerai più vera neanche di un pezzettino piccolo piccolo vostro voto tui doldi non c'è motivo non c'è motivo per piangere se io non fossi vera disse Alice quasi mettendosi a ridere in mezzo alle lacrime l'intera faccenda era talmente ridicola non sarei capace di piangere spero che tu non ti illuda che queste siano lacrime vere e interruppe tui doldam in tono di sommo disprezzo so che stanno dicendo delle cretinate pensò Alice fra se e se ed è sciocco piangersi sopra allora si asciugò le lacrime e riprese con tutta l'allegria che le riuscì di trovare in ogni modo è meglio uscire dal bosco perché si sta davvero facendo buio pioverà secondo voi tui doldam aprì un enorme ombrello sopra la testa sua e quella di suo fratello e alzò gli occhi verso la tela no non credo rispose perlomeno non qui sotto non si dà in alcun modo possibile ma pioverà fuori pioverà se vuole piovere disse tui doldi noi non abbiamo niente da obiettare per dirla alla rovescia egoisti pensò Alice e stava per dire buonasera e andarsene quando tui doldi balzò fuori da sotto l'ombrello e la ferrò per il polso lo vedi quello disse con la voce soffocata dalla rabbia e con gli occhi che diventavano sempre più grossi e gialli mentre con un dito tremante indicava una piccola cosa bianca che giaceva sotto l'albero è soltanto un sonaglio disse Alice dopo aver esaminato attentamente la piccola cosa bianca non un serpente a sonagli aggiunse in fretta pensando che lui si fosse spaventato soltanto un vecchio sonaglio molto vecchio e rovinato lo sapevo grilò tu doldam mettendosi a pestare i piedi per terra e a tirarsi i capelli e rotto naturalmente qui si volse a guardare tu doldi che subito si mise a sedere per terra e cercò di nascondersi sotto l'ombrello Alice gli posò la mano sul braccio e per calmarlo gli disse non avertela così a male per questo brutto sonaglio ma non è brutto esclamò tu doldam scosso da una furia ancora più nera è bello l'ho comprato ieri è il mio sonaglio bello e la voce si levò fino a diventare uno strillo perfetto durante tutto questo tempo tu doldi aveva cercato di fare del suo meglio per chiudere l'ombrello mentre lui ci restava dentro la cosa in sé era così straordinaria che distorsi completamente l'attenzione di Alice dall'altro furibondo fratello l'impresa gli riuscì solo in parte e finì col rotolare sull'erba tutto intrappolato dentro l'ombrello con solo la testa che ne sporgeva fuori e lì rimase aprendo e chiudendo la bocca e gli occhioni più simile a un pesce che a qualsiasi altra cosa pensò Alice naturalmente accetti di batterci in duello disse tu doldam con un tono più pacato dirai di sì rispose l'altro imbronciato mentre si divincolava per uscire dall'ombrello però lei dovrà aiutarci per la vestizione va bene e i due fratelli tenendosi per mano si inoltrarono dentro il bosco quando di lì a un minuto ritornarono avevano le braccia cariche di roba cuscini a salsicciotto coperte tappettini per il caminetto tovaglie coprivivande e secchi del carbone spero che ti sia brava ad appuntare spilli e a legare lacci vostre voti doldam tutte queste cose nessuna esclusa ce le dobbiamo mettere addosso in un modo o nell'altro in seguito Alice disse di non aver mai visto un tale trambusto per fare una cosa in tutta la sua vita il modo esagitato in cui si muovevano la quantità di cose che si misero addosso e il da fare che le diedero a stringere nodi ad allacciare bottoni più che altro finiranno per assomigliare a dei fagotti di abiti smessi quando saranno finalmente pronti disse fra se e se mentre sistemava un cuscino salsicciotto attorno al collo di Tudaldi per evitare che gli fosse tagliata via la testa come disse lui sai aggiunse con un tono molto grave questa è una delle cose veramente serie che ti potrebbero capitare in un duello che ti taglino via la testa ad Alice scappò da ridere ma riuscì a farlo sembrare un colpo di tosse per non urtare i suoi sentimenti sono molto pallido chiese Tudaldi mentre veniva a farsi sistemare l'elmo sulla testa lui lo chiamava elmo ma certo assomigliava molto di più a una pentola beh sì un pochino gli rispose Alice con gentilezza sono un tipo molto coraggioso di solito e gli aggiunse a voce bassa solo che oggi ho mal di testa e io ho mal di denti esclamò Tudaldi che aveva sentito la dichiarazione dell'altro sto molto peggio di te quando è così sarà meglio rinunciare al duello per oggi disse Alice pensando che fosse l'occasione buona per mettere pace un piccolo duello lo dobbiamo fare non mi importa se dura poco disse Tudaldi che ore sono adesso Tudaldi guardò l'orologio e rispose le quattro e mezza ci battiamo fino alle sei e poi andiamo a cena propose Tudaldi va bene rispose l'altro piuttosto malinconico e lei ci starà a guardare solo che non ti conviene star troppo vicina raggiunse di solito colpisco tutto quello che mi vedo davanti quando mi sono scaldato sul serio e io colpisco tutto quello che mi capita a portata di mano esclamò Tudaldi sia che lo veda o no Alice si mise a ridere chissà quante botte date agli alberi eh disse Tudaldi si guardò attorno con un sorriso compiaciuto non credo disse che resterà più un solo albero in piedi in questa zona quando avremo finito e tutto questo solo per un sonaglio osservò Alice che ancora sperava si vergognassero almeno un po' a battersi per un'inezia simile non me la sarai presa tanto spiegò Tudaldi se non fosse stato un sonaglio bello speriamo che l'enorme cornacchia arrivi subito pensò Alice abbiamo una spada sola Tudaldi disse al fratello ma tu puoi prendere l'ombrello che ha la punta anche lui però dobbiamo cominciare subito ormai si sta facendo buio anzi è buio fatto disse Tudaldi si fece buio così all'improvviso che Alice pensò dovesse esserci un temporale in arrivo ma che razza di nuvolone nero disse e come si avvicina in fretta ehi mi pare che abbia le ali era cornacchia strillò Tudaldi con una vocetta stridula e spaventata e i due fratelli voltarono i tacchi e scomparvero alla vista in un momento Alice raggiunse il bosco di corsa e si fermò sotto un grande albero qui non mi potrà mai prendere pensò è un uccello troppo grosso per riuscire a infilarsi sotto gli alberi ma con che forza sbatte le ali sembra che ci sia un uragano nel bosco guarda ha perfino fatto volar via lo scialle a qualcuno capitolo 5 lana e fiumana colse lo scialle al volo mentre parlava e si guardò attorno in cerca di quella proprietaria e un attimo dopo ecco apparire la regina bianca che correva come una pazza in mezzo al bosco a braccia larghe ben stese in fuori come se stesse volando e Alice le andò incontro con lo scialle premurosamente per fortuna ero sulla vostra strada disse Alice mentre l'aiutava a rimettersi lo scialle la regina bianca si limitò a guardarla con una strana espressione inerme e spaventata mentre continuava a ripetere in un sussurro qualcosa che suonava come pane e burro pane e burro e Alice capì che se voleva fare conversazione doveva trovare lei il modo di avviarla e con una certa apprezzione cominciò è alla regina bianca che io ora mi oso rivolgere beh sì se questo tu lo chiami avvolgere disse la regina non è certo il mio concetto della cosa pensando che non fosse il caso di litigare proprio all'inizio della conversazione Alice fece un sorriso e disse se la maestra vostra vorrà dirmi come cominciare cercherò di fare del mio meglio ma io non voglio che sia fatto brontolò la povera regina ho già passato le ultime due ore a vestirmi e ad avvolgermi negli scialli sarebbe stato meglio pensò Alice che si fosse fatta aiutare da qualcuno perché aveva un aspetto terribilmente disordinato non c'è una cosa che non sia messa a sghimbescio disse fra se e il tutto sta insieme solo a forza di spilli posso aggiustarle lo scialle aggiunse voce alta non capisco cosa gli abbia preso disse la regina con una voce malinconica oggi è di malumore credo l'ho fissato con una spilla qui e una là ma non si riesce a prenderlo per il suo verso non può star dritto vede sarei lo appunta tutto da una parte sola disse Alice mentre glielo accomodava premurosamente e i capelli ahimè in che stato sono ci si è impigliata la spazzola spiegò la regina con un sospiro e ieri ho perso il pettine Alice liberò con cautela la spazzola e fece il possibile per sistemarle i capelli ecco ora va molto meglio disse dopo aver cambiato di posto a quasi tutte le spille però lei dovrebbe avere una cameriera personale assumo te volentieri rispose la regina due soldi alla settimana e la marmellata a giorni alterni Alice non poteva fare a meno di scoppiare a ridere mentre diceva non voglio essere assunta io e poi non mi piace la marmellata è una marmellata molto buona disse la regina beh non ne voglio oggi in ogni caso oggi non potresti averla nemmeno se la volessi replicò la regina la regola è marmellata domani e marmellata ieri marmellata oggi è sempre no ma ci dovrà pure essere la marmellata oggi qualche volta obiettò Alice è impossibile disse la regina la marmellata è a giorni alterni oggi non è un giorno alterno capisci no non capisco affatto rispose Alice mi confonde terribilmente le idee è l'effetto del vivere alla rovescia le spiegò la regina gentilmente all'inizio da sempre un leggero senso di vertigine vivere alla rovescia ripete Alice con grande meraviglia non ho mai sentito parlare di una cosa simile ma bisogna dire che c'è un gran vantaggio quello della memoria che funziona in entrambe le direzioni la mia di sicuro funziona in un'unica direzione osservò Alice io non riesco a ricordarmi le cose prima che siano successe che memoria misera se funziona solo all'indietro osservò la regina quali sono le cose che lei ricorda meglio si arrischiò a chiedere Alice oh le cose che successero le due prossime settimane rispose la regina con un tono non curante per esempio guarda continuò avvolgendosi un largo pezzo di garza attorno al dito mentre parlava prendiamo il messaggero del re in questo momento si trova in prigione a scontare la pena ma il processo comincerà soltanto mercoledì prossimo e naturalmente il delitto viene per ultimo e se il delitto non venisse mai commesso disse Alice tanto meglio non ti pare rispose la regina mentre fissava la garza attorno al dito con un pezzetto di nastro Alice capì che era una risposta ineccepibile tanto meglio non c'è dubbio disse ma sarebbe stato ancora meglio se non fosse stato punito è qui che ti sbagli in ogni caso rispose la regina sei mai stata punita solo per delle malefatte rispose Alice e dopo ti sei sentita meglio lo so esclamò la regina in tono trionfante sì ma io avevo fatto le cose per le quali venivo punita disse Alice c'è una bella differenza ma se tu non le avessi fatte rispose la regina ti saresti sentita ancora meglio molto molto meglio la voce la si era andata facendo sempre più acuta finché sull'ultimo meglio divenne un vero e proprio strillo Alice stava dicendo eppure c'è qualcosa di sbagliato quando la regina cominciò a gridare così forte che dovete lasciare la frase a metà ai 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 strillava la regina agitando la mano come se avesse voluto scrollarsela via il mio dito sanguina ai 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 i suoi strilli assomigliavano così tanto al fischio di una locomotiva che Alice dovette tapparsi le orecchie con le mani cosa le è successo chiese appena intravide la possibilità di farsi sentire si è punto il dito non ancora rispose la regina ma me lo pungerò presto ai 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 quando si aspetta di pungerselo chiese Alice mentre le scappava da ridere quando mi metterò a posto lo scialle gemette la povera regina la spilla si aprirà di colpo ai ai mentre diceva queste parole la spilla si sganciò e la regina la ferrò con fuoga cercando di richiuderla stia attenta grudò Alice l'ha presa male e cercò di aiutarla ma era ormai troppo tardi la spilla era scivolata e la regina si era punta il dito come si spiega il dito che sanguinava disse ad Alice con un sorriso ormai sai come vanno le cose qui ma perché non grida adesso comandò Alice pronta a coprirsi le orecchie con le mani ma ho già esaurito tutti gli strilli disse la regina che senso ha ricominciare tutto da capo intanto tornava a far chiaro la cornacchia deve essere volata via disse Alice come sono contenta che se ne sia andata avevo creduto che stesse per far notte vorrei tanto essere contenta anch'io disse la regina ci deve essere una regola per riuscirci ma io non ricordo mai qual è come devi essere felice tu vivi nel bosco e sei contenta tutte le volte che vuoi ma mi sento così sola qui disse Alice con voce malinconica e al pensiero della propria solitudine due grossi lacrimoni le rotolarono giù per le guance via non fare così esclamò la povera regina torcendosi le mani angosciate pensa come sei grande pensa a quante strade hai fatto oggi pensa a che ore sono pensa a qualsiasi cosa ma non ti mettere a piangere Alice non poté fare a meno di scoppiare a ridere nel bel mezzo del pianto si può smettere di piangere solo pensando a delle cose domandò è così che si fa rispose la regina con grande decisione perché vedi non si possono fare due cose insieme pensiamo alla tua età per cominciare quanti anni hai sette e mezzo esatti esatti non occorre che tu me li dica tutti esatti osservò la regina ti credo lo stesso adesso ti darò io qualcosa a cui credere io ho cento e un anni cinque mesi e un giorno non ci posso credere esclamò Alice no disse la regina in tono di compassione provaci ancora fai un lungo respiro e chiudi gli occhi Alice scoppiò a ridere non serve riprovarci disse non si può credere alle cose impossibili direi che sei giù d'esercizio disse la regina quando avevo la tua età io ci provavo sempre una mezz'oretta al giorno a volte riuscivo a credere fino a sei cose impossibili prima di colazione al mattino ecco il mio scialle che vola via di nuovo mentre parlava le si era aperta la spilla e un improvviso colpo di vento le aveva fatto volare lo scialle al di là del ruscelletto la regina tese le braccia in fuori un'altra volta e alzandosi in volo lo inseguì questa volta riuscì a riprenderlo da sola l'ho preso gridò un tono trionfante vedrai che me lo riappunto tutto da sola e il dito va meglio ora chiese Alice premurosa mentre saltava il ruscelletto seguendo l'esempio della regina oh molto meglio gridò la regina con una voce che si andava facendo sempre più stridula molto meglio 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 meh l'ultima parola si concluse in un lungo belato tanto simile a quello di una pecora che Alice trasalì guardò la regina era come se si fosse avvolta tutta dentro a della lana Alice si sfregò gli occhi e guardò di nuovo non riusciva proprio a capire cosa potesse essere successo si trovava forse in una bottega e quella era davvero una pecora quella che si trovava seduta dall'altra parte del banco per quanto si sfregasse non c'era niente da fare si trovava in una piccola bottega buia con i gomiti appoggiati al banco e aveva davanti una vecchia pecora seduta su una poltrona che sferruzzava a maglia e che di tanto in tanto si interrompeva per guardarla attraverso un grosso paio di occhiali vuoi comprare qualcosa? mi chiese infine la pecora alzando gli occhi per un momento dal suo lavoro per ora non glielo so dire rispose Alice molto cortesemente vorrei prima dare un'occhiata in giro se posso puoi dare un'occhiata a quello che hai davanti e a quello che hai di lato se vuoi rispose la pecora ma non puoi guardarti in giro a meno che tu non abbia un paio di occhi anche dietro ma Alice chiaramente non ce li aveva allora si accontentò di girarsi su se stessa e di andare a guardare gli scaffali da vicino il negozio era pieno di ogni tipo di cose curiose ma il fatto più strano era che ogni volta che Alice fissava lo sguardo su uno scaffale per vedere cose contenesse era sempre vuoto benché tutti gli altri attorno fossero pieni zeppi di cose ma qui le cose fluttuano gemette Alice con tono piagnucoloso dopo aver speso circa un minuto a rincorrere una grossa cosa chiara che a volte sembrava una bambola a volte un cestino da lavoro e che era sempre sulla scaffale immediatamente sopra a quello che lei stava guardando questa poi è una vera provocazione ma adesso la giusto io aggiunse mentre un pensiero improvviso le attraversava la mente la inseguo fin sull'ultimo scaffale voglio proprio vedere come farà a passare attraverso il soffitto ma anche questo progetto fallì la cosa passò attraverso il soffitto con assoluta tranquillità come se ci fosse abituata sei una bambina o una trottola disse la pecora mentre prendeva un altro paio di ferri mi farai venire le vertigini se non la smetti di rigirarti in quel momento stavo lavorando con quattordici paia di ferri contemporaneamente e Alice non potrei fare a meno di guardarla sbalordita come fa a lavorare con così tanti ferri pensò fra se e se l'attonita bambina ogni minuto che passa va assomigliando sempre di più a un porco spino sai remare chiese la pecora apporgendole un paio di ferri sì un po' ma non a terra e non con i ferri da calza stava per dire Alice quando improvvisamente i ferri nelle sue mani si trasformarono in remi e si ritrovò con la pecora su una barchetta che scivolava fra le due sponde di un fiume sicché non le rimase che arrangiarsi alla meglio spala disse la pecora aggiungendo un altro paio di ferri siccome quella non sembrava un'osservazione che sollecitasse una risposta Alice non disse nulla e continuò a remare c'era qualcosa di molto strano in quell'acqua pensò perché di tanto in tanto i remi ve le stavano conficcati dentro e non c'era verso di tirarli fuori spala spala esclamò ancora una volta la pecora aggiungendo altri ferri ti beccherai presto un gran sgrugnone un gamberone pensò Alice oh sì che bello non hai sentito che ti ho detto spala esclamò la pecora irritata aggiungendo un intero mazzo di ferri ho sentito ho sentito rispose Alice l'ha detto più di una volta e a voce alta per favore dove sono i gamberoni in acqua naturalmente dispose la pecora infilandosi qualche ferro tra i capelli poiché ne aveva già troppi tra le mani spala ti dico perché continua a dirmi spala spala domandò infine Alice piuttosto seccata perché mi ha preso ti ho preso per quello che sei disse la pecora un'oca Alice si offese un poco e non ci fu più alcun dialogo per un minuto o due mentre la barchetta scivolava leggera sull'acqua a volte fra banchi di erbacce dove i remi si impegliavano peggio che mai e a volte passando sotto gli alberi mentre le sponde del fiume erano sempre alte e minacciose sopra le loro teste oh la prego ci sono dei giunchi profumati esclamò Alice in un'improvvisa esplosione di gioia eccoli lì come sono belli non devi pregare me rispose la pecora senza alzare gli occhi dal lavoro a maglia non ce li ho messi io e non sarò io a toglierli no volevo dire la prego possiamo fermarsi a coglierne un po' implorò Alice non le dispiace fermare la barca per un minuto come faccio a fermarla io disse la pecora se smetti di remare si fermerà da sola allora la barca venne lasciata scivolare sull'acqua alla deriva finché non si arenò lentamente fra i giunchi profumati e allora le maniche del grembiulino vennero accuratamente rimboccate e le brazzine tuffate fino al gomito dentro all'acqua per afferrare i giunchi il più in basso possibile prima di spezzarli e per un po' Alice dimenticò totalmente la pecora e il suo lavoro a maglia mentre sporgendosi dal fianco della barca con la punta degli arruffati capelli che lambiva la superficie dell'acqua gli occhi luccicanti accesi di desiderio coglieva un mazzo dietro l'altro dei suoi adorati giunchi profumati spero solo che la barca non si capovolga diceva a se stessa oh com'è bello quello ma non riesco a prenderlo e sembrava proprio una provocazione come se lo facessero apposta pensava perché sebbene riuscisse a cogliere una gran quantità di bellissimi giunchi mentre la barca fluttuava sull'acqua ce n'era sempre uno di più bello al quale non arrivava i più belli sono sempre quelli più lontani esclamò infine tirando un sospiro per quei giunchi che si ostinavano a crescere tanto lontani mentre con le guance rosse i capelli e le mani gocciolanti ritornava gattoni al suo posto e si accingeva a sistemare il suo nuovo tesoro che gliene importava di quel momento se i giunchi appena colti avevano già cominciato ad appassire e a perdere il loro profumo e la loro fragranza perfino i veri giunchi profumati durano un tempo assai limitato capite e questi essendo giunchi del sogno si scioglievano quasi come se fossero neve tutti via unchiati ai suoi piedi ma forse Alice nemmeno se ne accorse c'erano tante altre cose curiose a cui pensare non erano andate molto avanti quando la pala di un remo si conficcò nell'acqua e non ne volle più sapere di venire fuori questo è quanto Alice spiegò in seguito e la conseguenza fu che il manico la colpì sotto il mento e nonostante la serie di gridolini oi 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 la povera Alice fu sbalzata via dal sedile e andò a cadere sul mucchio di giunchi ma non si fece alcun male e si raddrizzò subito la pecora aveva continuato a lavorare a maglia per tutto il tempo come se niente fosse però sei beccato un gran bello sgrugnione osservò mentre Alice si rimetteva al suo posto con un gran senso di sollievo per essere ancora dentro la barca davvero non l'ho visto disse Alice e birciando cautamente oltre il fianco della barca dentro all'acqua scura peccato che mi sia scappato non vorrei tanto un gamberone per portarlo a casa ma la pecora si limitò a fare una risatina sarcastica e riprese a sferruzzare ci sono molti gamberoni qui gamberoni e ogni genere di cose rispose la pecora c'è una grande varietà devi solo scegliere beh che cosa vuoi comprare comprare le fece ecco Alice con un tono che era mezzo sbalordito e mezzo spaventato perché i remi la barca e il fiume tutto era svanito in un attimo e ora si ritrovava di nuovo nella botteguccia scura vorrei un uovo prego disse timidamente quanto costa cinque soldi per uno e due soldi per due rispose la pecora allora due costano meno di uno disse Alice sorpresa tirando fuori il borcellino ma se ne compri due li devi mangiare tutti e due rispose la pecora allora ne compro uno per favore fece Alice mentre metteva i soldi sul banco poiché aveva pensato fra sé potrebbero anche non essere tanto buone la pecora prese i soldi e li mise in una scatola poi disse non consegno mai le cose in mano alla gente non sta bene te lo devi prendere da sola e così dicendo se ne andò all'estremità opposta della bottega e sistemò l'uovo appoggiandolo per dritto su uno scaffale chissà perché non sta bene si domandò Alice mentre si muoveva a tentoni fra i tavoli e le sedie perché la bottega era molto buia verso il fondo più mi avvicino e più mi sembra che l'uovo si allontani aspetta un po' qui c'è una seggione mi pare ma hai rami giuro è proprio buffo lasciar crescere gli alberi qui ed ha con ruscelletto questa è davvero la bottega più stramba che io abbia mai visto e si inoltrava sempre più piena di meraviglia perché tutto si trasformava in albero appena lei si avvicinava e ormai si aspettava che la stessa sorte sarebbe toccata all'uovo Alice capitolo 6 Ampty Dumpty tuttavia l'uovo non fece che diventare sempre più grande sempre più grosso e assumere un aspetto sempre più umano era ormai giunta a pochi metri di distanza quando Alice si accorse che aveva occhi naso e bocca e quando gli fu del tutto vicina vide chiaramente che si trattava di Ampty Dumpty in persona non può essere altro che lui disse fra se e se ne sono sicurissima come se avesse il nome scritto tutto intorno alla faccia ce l'avrebbero potuto scrivere facilmente almeno un centinaio di volte su quell'enorme faccione Ampty Dumpty se ne stava seduto con le gambe incrociate come un turco sopra un muretto piuttosto alto così stretto che Alice non capiva come facesse a stare in equilibrio e poiché lui teneva lo sguardo fisso da un'altra parte e non la guardava per niente pensò che tutto sommato forse non era altro che un fantoccio imbottito è preciso identico a un uovo per davvero disse a voce alta mentre stava pronta con le mani per afferrarlo poiché si aspettava da un momento all'altro di vederlo cadere è una vera provocazione disse Ampty Dumpty dopo un lungo silenzio e senza guardare in direzione di Alice sentirsi dare dell'uovo veramente ho detto che sembra un uovo signore spiegò Alice gentilmente e certe uova sono molto belle aggiunse sperando di riuscire a far passare la sua osservazione per un complimento certa gente ribatte Ampty Dumpty continuando a guardare dall'altra parte non ha più giudizio di un neonato Alice non sapeva cosa replicare non si trattava di un dialogo vero e proprio pensò perché lui non parlava mai direttamente con lei in effetti quell'ultima osservazione sembrava che l'avesse fatta un albero allora se ne stette ferma e cominciò a recitare quietamente fra sé Ampty Dumpty sul muro era seduto Ampty Dumpty dal muro era caduto con tutti tutti i suoi cavalli e con tutti tutti i suoi fanti nemmeno il re poteva rimettere Ampty Dumpty su quel muro vera seduto l'ultimo verso è troppo lungo aggiunse quasi parlando a voce alta dimenticandosi che Ampty Dumpty poteva sentirla non startene lì in piedi a parlare da sola disse Ampty Dumpty guardandola per la prima volta ma dimmi piuttosto il tuo nome e cosa ci fai qui il mio nome è Alice ma che nome stupido la interruppe Ampty Dumpty spazientito che cosa significa un nome deve avere un significato chiese Alice dubbiosa certamente rispose Ampty Dumpty con una risatina il mio nome significa la forma che ho una gran bella forma tra l'altro con un nome come il tuo potresti avere grosso modo qualsiasi forma perché se ne sta seduto qui fuori tutto solo domandò Alice che non voleva mettersi a litigare beh ma perché qui non c'è nessuno esclamò Ampty Dumpty credevi che non sapessi rispondere a una domanda come questa provane un'altra non crede che sarebbe più sicuro per terra continuò Alice non certo con intenzione di produrre un indovinello ma solo perché era sinceramente in ansia per quella strana creatura quel muro è tanto stretto che indovinelli tremendamente facili fai tu Bruntolo Ampty Dumpty non credo proprio che sarei più sicuro per terra se dovesse mai capitarmi di cadere che è assolutamente improbabile ma se dovesse capitarmi e qui si corrucciò increspando le labbra con un'espressione così solenne e grave che Alice si trattenne a fatica dal ridere se mi capitasse di cadere soggiunse il re mi ha promesso puoi impallidire finché ti pare non te l'aspettavi eh il re mi ha promesso lui in persona di 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 mandare tutti i suoi cavalli e tutti i suoi fanti non interruppe Alice piuttosto avventatamente questo è troppo viva Dio esclamò Ampty Dumpty in un improvviso scoppio di collera hai origliato alle porte dietro agli alberi dietro ai camini altrimenti non lo avresti mai saputo non è vero glielo assicuro rispose Alice molto garbatamente l'ho trovato su un libro ah beh sui libri scrivono di queste cose disse Ampty Dumpty con un tono più pacato la chiamate storia d'Inghilterra già allora guardami bene io sono uno che ha parlato con un re un altro come me magari non le incontri più e per dimostrarti che non pecco d'orgoglio ti concedo di stringermi la mano e fece un largo sorriso che gli andava da un orecchio all'altro mentre si chinava in avanti stava quasi per cadere e porgeva la mano ad Alice lei lo guardò piuttosto preoccupata mentre contraccambiava gli basterebbe fare un sorriso un tantino più largo e gli angoli della bocca finirebbero per incontrarsi dietro la testa pensò ma a quel punto non saprei che cosa ne sarebbe della sua testa ho paura che finirebbe per perderla sì tutti i suoi cavalli e tutti i suoi fanti aggiunse Humpty Dumpty mi rimetterebbero in piedi in un attimo certo comunque questa conversazione sta andando a un ritmo troppo veloce torniamo indietro alla penultima osservazione purtroppo non me la ricordo più rispose Alice con molto garbo in tal caso ricominciamo da capo disse Humpty Dumpty adesso tocca a me introdurre un argomento ne parla come se fosse un gioco pensò Alice eccoti pronta una domanda quanti anni hai detto che avevi Alice fece un rapido calcolo e disse sette anni e sei mesi sbagliato gridò Humpty Dumpty trionfante non me l'avevi mai detto credevo che lei intendesse quanti anni hai spiegò Alice se avessi inteso dire quello avrai detto quello disse Humpty Dumpty Alice non aveva voglia di cominciare un altro litigio e non disse niente sette anni e sei mesi ripete Humpty Dumpty cogitabondo un'età molto scomoda guarda se tu ti fossi rivolta a me per un consiglio ti avrai detto a sette lascia perdere ma ormai è troppo tardi non chiedo mai consigli su come si fa a crescere rispose Alice indignata troppo orgogliosa volle sapere l'altro a questa insinuazione Alice si indignò ancora di più intendo dire spiegò che non si può fare a meno di crescere da soli forse non si può disse Humpty Dumpty ma in due sì se qualcuno ti dava una mano avresti potuto smettere a sette anni che bella cintura avete osservò improvvisamente Alice l'argomento dell'età era esaurito secondo Alice e se davvero dovevano scegliere a turno l'argomento della conversazione adesso toccava a lei forse si corresse ripensandoci è una bella cravatta ma no è una cintura mi scusi la prego raggiunse desolata perché Humpty Dumpty aveva assunto un'aria terribilmente offesa e lei cominciò a pentirsi di aver scelto quell'argomento se soltanto sapessi pensò fra stesse dove finisce il collo e dove comincia il petto Humpty Dumpty era veramente furioso anche se non disse una parola per un minuto o due quando finalmente riprese a parlare gli uscì un cupo pronto lì è una provocazione vera e propria disse infine non sapere distinguere una cravatta da una cintura so che è molto stupido da parte mia disse Alice con un tono così umile che Humpty Dumpty si raddolcì è una cravatta cara una bella cravatta come hai detto tu è un regalo del re e della regina bianchi ecco davvero fece Alice assai contenta di aver scelto l'argomento giusto dopo tutto me la diedero continuò Humpty Dumpty cogitabondo mentre accavallava una gamba sull'altra e con le dita intrecciate stringeva il ginocchio fra le mani me la diedero come regalo di non compleanno come scusi fece Alice con un'aria perplessa non sono offeso replicò Humpty Dumpty voglio dire cos'è un regalo di non compleanno un regalo che non viene dato il giorno del compleanno evidentemente Alice ci pensò sopra preferisco i regali di compleanno disse infine non sai di cosa stai parlando esclamò Humpty Dumpty quanti giorni ci sono in un anno 365 rispose Alice e quanti compleanni hai uno e se fai 365 meno uno cosa resta 364 naturalmente Humpty Dumpty aveva un'aria dubbiosa voglio vederlo scritto nero su bianco disse Alice non poteva fare a meno di sorridere mentre estraeva la sua agenda per gli appunti e scriveva la sottrazione per lui 365 meno uno uguale 364 Humpty Dumpty prese l'agenda e la guardò con grande attenzione mi sembra giusta cominciò ma la tiene capovolta lo interruppe Alice hai proprio ragione esclamò Humpty Dumpty allegramente mentre Alice gliela raddrizzava c'era qualcosa di strano come ti ho detto mi sembrava che fosse giusta anche se in questo momento non ho il tempo di controllarla a dovere e questo dimostra che ci sono 364 giorni nei quali puoi avere un regalo di non compleanno certamente disse Alice è soltanto un giorno per i regali di compleanno hai capito hai di che gloriarti non capisco di che cosa devo gloriarmi disse Alice Humpty Dumpty fece un sorriso sprezzante non lo capisci perché non te l'ho ancora spiegato vuol dire che è un argomento che ti stende a terra ma gloriarsi non vuol dire un argomento che ti stende a terra obiettò Alice quando io uso una parola disse Humpty Dumpty con un certo sdegno quella significa ciò che io voglio che significhi né più né meno la questione è disse Alice se lei può costringere le parole a significare così tante cose diverse la questione è replicò Humpty Dumpty chi è che comanda ecco tutto Alice era troppo perplessa per ribattere qualcosa perciò dopo un minuto Humpty Dumpty riprese hanno un caratterino almeno certe soprattutto i verbi sono i più orgogliosi agli aggettivi si può fare qualsiasi cosa ma coi verbi è diverso comunque io so farle filare tutte quante impenetrabilità questo dico io mi può spiegare per favore chiese Alice che cosa significa ora sì che parli come una bambina giudiziosa disse Humpty Dumpty con un'aria molto compiaciuta con impenetrabilità intendevo dire che l'argomento è chiuso e tanto varrebbe che tu mi dicessi cosa vuoi fare adesso dal momento che suppongo non intendi fermarti qui per il resto della tua vita sono un bel mucchio di cose da far significare a una parola sola commentò Alice in tono pensieroso quando costringo una parola a fare tutto quel lavoro disse Humpty Dumpty le pago sempre lo straordinario ah fece Alice era troppo sbalordita per aggiungere qualcos'altro dovresti vederle al sabato sera come si affollano tutte intorno continuò Humpty Dumpty scuotendo gravemente il capo da un lato all'altro per avere la paga capisci Alice non ebbe il coraggio di chiedergli con che cosa le pagasse perciò io non posso riferirlo a voi vedo che l'hai il signore è molto bravo a spiegare le parole disse Alice potrebbe spiegarmi il significato della poesia intitolata cicciarampa sentiamola rispose Humpty Dumpty so spiegare tutte le poesie che siano mai state inventate e anche parecchie di quelle che non sono ancora state inventate suonava incoraggiante e allora Alice ripete la prima strofa era cerfuoso e i vivisci di tuoppi gli arrivano foracchiando nel pedano stavano tutti i mifri vilo snuoppi mentre scuolian i momiradi in vano basta così per cominciare interruppe Humpty Dumpty ci sono un sacco di parole difficili già qui cerfuoso significa che sono le quattro del pomeriggio il momento nel quale si cominciano a mettere sul fuoco le cose per la cena va bene ho capito disse Alice e vivisci di beh vivisci di significa svelti e scivolosi svelto nel senso di attivo è come un baule capisci ci sono due significati imballati dentro un'unica parola sì sì adesso capisco convenne Alice pensierosa e cose sono i tuoppi guarda i tuoppi sono un po' come i tassi è un po' come le lucertole è un po' come i cavatappi che strane creature debbono essere lo sono lo sono disse Amti Danti e inoltre fanno il nido sotto le meridiane e inoltre si nutrono di formaggio e che cos'è ghiarivan e foracchiando ghiarire è continuare a girare su se stessi come un giroscopio foracchiare vuol dire fare buchi con un succhiello e il pedano è il praticello che c'è attorno alla meridiana suppongo disse Alice sorpresa della propria genialità proprio così si chiama pedano perché non ci si può andare altro che a piedi per un lungo tratto sia davanti che dietro e non ci si può andare altro che a piedi anche sui due lati aggiunse Alice esattamente poi mifri vuol dire fragili miserabili eccoti un'altra parola vaule è un vilosnuoppo è un uccelletto magro e bruttino con le penne come spuntoni che gli vengono fuori da tutte le parti una specie di spazzolone vivente e momiradi chiese Alice ma forse le sto dando troppo disturbo dunque un rado è una specie di maialino verde ma non sono del tutto sicuro di che cosa voglia dire momo penso che sia un'abbreviazione di mamma mia nel senso di sentirsi sperduto capisci? che cosa vuol dire scoltian? beh scoltire è qualcosa che sta tra l'urlo e il fischio con in mezzo una specie di starnuto ma ti potrà capitare di udirlo qualche volta in quel bosco laggiù e quando l'avrai udito una sola volta ti sentirai completamente felice chi ti ha insegnato tutta questa roba difficile? l'ho letta su un libro rispose Alice ma qualcuno mi ha detto una poesia molto più facile mi pare che fosse Tweedledee quanto alle poesie disse Humpty Dumpty facendo un ampio gesto con la sua manona io le so recitare molto bene come l'altro compare se questo è il problema oh no non è un problema si affrettò a ribattere Alice nella speranza di fermarlo la poesia che ti reciterò disse Humpty Dumpty senza far caso alla sua obiezione è stata scritta apposta per te stando così le cose Alice capì di essere obbligata ad ascoltarlo e allora si sedette per terra e rispose con un laconico grazie d'inverno quando il prato è bianco per te questa canzone io canto solo che io non la canto aggiunse a modo di spiegazione lo vedo che non la canta rispose Alice devi avere degli occhi ben aguzzi per vedere se canto o no osservò Humpty Dumpty severamente Alice tacque in primavera coi boschi verdeggianti te la spiegherò coi tuoi significanti mille grazie disse Alice d'estate con le giornate lunghe assai questa canzone al fin tu capirai in autunno quando le foglie cadono sul piano te la scrivi con la pena pronta in mano lo farò senz'altro se me la ricorderò disse Alice non devi fare tutti questi commenti le disse Humpty Dumpty sono irrilevanti e mi confondono ai pesci lo annunciai e dissi lo voglio ormai e la risposta del mare non si fece aspettare la risposta fu ahimè non lo possiamo fare perché mi scusi ma non capisco disse Alice poi diventa più facile replicò Humpty Dumpty ai pesci mi andai a dire molto meglio era obbedire replicaron con l'anguore come sai di malumore una volta glielo dissi la seconda glielo scrissi poi comprai una pignata che al mio scopo fosse adatta alla fonte la portai nel mio cuore quanti guai un tipo si accostò dormono i pesci lo so dissi con parole chiare tu li devi risvegliare la voce alta lo gridai all'orecchio glielo urlai Ampty Dumpty recitando quest'ultima strofa alzò la voce fino quasi a urlare e Alice pensò con un brivido non avrei dovuto essere quel messaggero per nulla al mondo Impettito stava lì disse non urlar così Impettito egli ristè vado a svegliarli solo se duncava tappi armato andai dai pesci difilato la porta chiusa vi trovai e a calci e a spinta io bussai vi serravano la chiave già e la meraviglia provai ma ci fu una lunga pausa è finita chiese Alice timidamente è finita rispose Ampty Dumpty arrivederci piuttosto brusco pensò Alice ma dopo un invito così pesante a prendere commiato capì che sarebbe stato difficile trattenersi oltre senza apparire maleducata allora si alzò e tese la mano arrivederci al prossimo incontro disse mettendoci quanta più allegria possibile se dovessimo rivederci non credo che ti riconoscerei replicò Ampty Dumpty con un'aria insoddisfatta concedendole una delle sue dita da stringere sei talmente uguale a tutte le altre persone ti si riconosce dal viso in genere osservò Alice pensierosa è proprio di quello che mi lamento disse Ampty Dumpty la tua faccia è uguale a quella di tutti gli altri hai due occhi col pollice ne segnò il posto nell'aria in mezzo c'è il naso e sotto la bocca è sempre uguale se almeno gli occhi fossero tutti e due a sinistra del naso e la bocca in alto invece che in basso allora sarebbe più facile ma non sarebbe una bella faccia obiettò Alice Ampty Dumpty chiuse gli occhi impazzibile e disse aspetta e vedrai Alice aspettò un minuto o due per vedere se avesse parlato di nuovo ma siccome non riaprì più gli occhi né diede segno di cularsi di lei disse arrivederci ancora una volta e non avendo ottenuto risposta se ne andò tranquillamente via ma mentre si allontanava non pote fare a meno di dire a se stessa fra tutte le persone inconcludenti e lo ripete a voce alta come se ci trovasse una grande soddisfazione nel dire una parola così lunga fra tutte le persone inconcludenti che ho mai conosciuto non finì mai la frase perché in quel preciso momento un formidabile tonfo squassò la foresta da un capo all'altro capitolo 7 il leone e l'unicorno un attimo dopo giunsero correndo per il bosco due soldati da prima due o tre alla volta poi dieci o venti insieme e infine a frotte tanto che l'intera foresta ne pareva piena Alice si nascose dietro a un albero per paura di essere travolta e li guardò passare in tutta la sua vita non aveva mai visto soldati così mal sicuri sulle gambe stavano sempre inciampando in qualche cosa e quando ne cadeva uno ce n'erano poi parecchi altri che gli cadevano addosso cosicché il terreno fu ben presto ricoperto da piccoli mucchi di persone poi giunsero i cavalli avendo quattro zampe se la cavavano assai meglio dei fanti ma persino loro di tanto in tanto incespicavano e sembrava che ci fosse una regola fissa quando un cavallo incespicava il cavaliere cadeva a terra immediatamente la confusione andava peggiorando di minuto in minuto e quando Alice uscì dal bosco e si trovò in un campo aperto fu molto contenta c'era il re bianco seduto per terra tutto intento a scrivere sulla sua agenda tutti li ho mandati esclamò il re con un tono gioioso appena vide Alice non hai incontrato qualche soldato per caso mia cara mentre passavi per il bosco oh sì rispose Alice parecchie migliaia di soldati direi 4207 questa è la cifra esatta disse il re mostrando l'agenda non ho potuto mandare tutti i cavalli perché due mi servono per la partita e non ho mandato nemmeno i messaggeri sono scesi in città tutti e due guarda un po' lungo la strada e dimmi se ne vedi almeno uno sulla strada mi par di vedere ma nessuno disse Alice dove sia una vista così acuta commentò il re con gran calore riuscire a vedere nessuno né questa distanza poi è già tanto se riesco a vedere le persone vere con questa luce ma Alice non sentì una parola era tutta intenta a scrutare la strada facendosi schermo agli occhi con una mano adesso vedo qualcuno vedo infine ma viene avanti molto lentamente e che strano modo di gesticolare ha infatti il messaggero continuava a saltellare su e giù e a contorcersi come un'anguilla con le enormi mani stese in fuori e aperte a ventaglio lungo i fianchi non è niente disse il re è un messaggero anglosassone e quella è la gesticolazione anglosassone fa così soltanto quando è felice si chiama frette lo pronunciò in modo che facesse rima con ghette amo il mio amore con una F non poter fare a meno di recitare Alice perché è felice odio il mio amore con una F perché è furioso lo nutro con con focacce e fieno si chiama frette e vive vive fra le foglie osservò semplicemente il re senza avere la minima idea di unirsi al gioco mentre Alice esitava cercando il nome di una città che cominciasse con F l'altro messaggero si chiama Cappe mi tocca averne due sai per l'andata e per il ritorno uno viene e l'altro va prego disse Alice non si devono pregare le persone disse il re volevo solo dire che non ho capito spiegò Alice perché uno viene e l'altro va te lo sto dicendo ripete il re spazientito devo averne due per portare e per prendere una porta e l'altro prende in quel momento arrivò il messaggero era così trafelato che non riuscì a dire una parola ma si limitò ad agitare le braccia e a fare le più orribili smorfie al povero re questa giovane fanciulla ti ama come una F disse il re presentandogli Alice nella speranza che il messaggero smettesse di concentrare la sua attenzione su di lui ma non servì a niente la gesticolazione anglosassone si fece ancora più stravagante mentre i grandi occhi roteavano da una parte all'altra mi fai paura esclamò il re mi sento svenire dammi una focaccia al che il messaggero con gran divertimento di Alice aprì la borsa che teneva appesa al collo e porse una focaccia al re che la divorò avidamente dammene un'altra disse il re non mi è rimasto che un po' di fieno rispose il messaggero guardando dentro il sacco dammi il fieno allora mormorò il re in un debole bisbiglio Alice si rallegrò nel vedere che con quello si rianimava non c'è niente come masticare del fieno quando ci si sente svenire le disse mentre ruminava forse sarebbe stato meglio spruzzarle sul viso un po' d'acqua fredda suggerì Alice o farle annusare dei sali non ho detto che non c'è niente di meglio replicò il re ho detto che non c'è niente come e Alice non si azzardò a contraddirlo ha incontrato ha incontrato qualcuno per strada continuò il re allungando la mano verso il messaggero per avere ancora del fieno nessuno rispose il messaggero giustissimo rispose il re anche questa giovane fanciulla l'ha visto naturalmente nessuno è più lento di te faccia del mio meglio rispose il messaggero imbronciato sono certo che nessuno cammina molto più in fretta di me ah questo è più che sicuro disse il re altrimenti sarebbe arrivato qui per primo comunque adesso che hai ripreso fiato dici cosa è successo in città glielo dirò sottovoce disse il messaggero portandosi le mani a imbuto davanti alla bocca e chinandosi sull'orecchio del re Alice ne fu dispiaciuta perché voleva sentire anche lei le notizie tuttavia invece di bisbigliare quello si mise semplicemente a urlare con quanta più voce aveva in corpo hanno ripreso e quello lo chiami parlare sottovoce esclamò il povero re balzando in piedi e dandosi una gran scrollata se ci riprovi un'altra volta ti faccio imburrare è come se mi fosse passato in testa un terremoto non poteva essere che un terremoto molto modesto pensò Alice chi ha ripreso si alzardò a chiedere ma il leone e l'unicorno naturalmente rispose il re a battersi con la corona ci puoi giurare disse il re il bello è che è la mia corona quella per cui si battono andiamo di corsa a vederli e trattarono via mentre Alice correndo ripeteva fra sé e sé le parole della vecchia canzone il leone e l'unicorno si batteano per la corona il leone le dia sode le città ancora ne suona dieder loro del pan bianco dieder loro del pan nero e la torta sazietà ma al suono dei tamburi la scacciaron dalla città quello che vince prende la corona riuscì a malapena a domandare poiché la corsa non le lasciava il fiato per parlare oh cielo no dice il re come ti viene in mente sia gentile ansimo Alice dopo aver corso per un altro pezzo non potremmo prenderci un attimo di sosta per riprendere fiato io sono molto gentile rispose il re ma non sono tanto forte l'attimo sfreccia via con la velocità di un lampo sarebbe come se volessimo cercare di prenderci un grafo a brancio Alice non aveva più fiato per parlare così continuarono a trottare in silenzio finché non giunsero in vista di una folla numerosa in mezzo alla quale stavano combattendo il leone e l'unicorno erano avvolti da una tale nuvola di polvere che sulle prime Alice non riuscì a distinguere l'uno dall'altro ma riconobbe ben presto l'unicorno per via del corno presero posto vicino a Cappe l'altro messaggero che stava guardando il combattimento con una tazza di tè in una mano e una fetta di pane e burro nell'altra è appena uscito di prigione e al momento dell'arresto non aveva ancora finito di prendere il tè su se raffrette ad Alice là dentro non hanno altro che gusci d'ostrica e naturalmente adesso ha una gran fame e una gran sete come va giovanotto soggiunse cingendo affettuosamente con il braccio alle spalle di Cappe Cappe volse la testa verso di lui e fece un cenno di assenso poi riprese a mangiare il suo pane e burro ti piaceva la prigione giovanotto domandò Frette Cappe si volse di nuovo e questa volta una lacrima o due gli scivolarono lungo le guance ma non si lasciò sfuggire una sola parola non puoi parlare esclamò Frette con impazienza ma Cappe continuò a masticare il suo pane e burro e a bere un po' di tè non vuoi parlare esclamò il re come va il combattimento con uno sforzo disperato Cappe inghiottì un grosso pezzo di pane e burro va bene va bene disse con voce strozzata sono caduti a terra ottantasette volte ciascuno allora è quasi venuto il momento di portare loro il pane bianco e il pane nero si azzardò a chiedere Alice è già pronto che aspetta rispose Cappe ne sto appunto mangiando un pezzetto proprio in quel momento ci fu una pausa nel combattimento e il leone e l'unicorno si misero a sedere anzimanti mentre il re proclamava a gran voce dieci minuti di sosta per i rinfreschi Frette e Cappe si misero subito al lavoro portando in giro i vassoi di pane bianco e di pane nero Alice ne prese un pezzo per assaggiarlo ma era molto secco non credo che per oggi avremo un altro combattimento disse il re a Cappe vai a ordinare ai tamburi di attaccare e Cappe si allontanò saltando come una cavalletta per un paio di minuti Alice rimase in silenzio a guardarlo poi si illuminò tutta guardate guardate esclamò puntando il dito frenetica ecco la regina bianca che sta correndo per la campagna è volata fuori da quel bosco laggiù ma come corrono veloci queste regine avrà qualche nemico alle calcagna senza dubbio disse il re senza nemmeno volgere lo sguardo il bosco ne è pieno ma non corre ad aiutarla domandò Alice assai sorpresa dalla calma con cui l'altro prendeva la cosa sarebbe inutile completamente inutile rispose il re corre con la velocità del lampo sarebbe come cercare di prendere un grafo brancio me ne prendo nota sull'agenda se vuoi è una creatura cara e buona ripete piano fra sé mentre apriva l'agenda creatura si scrive con due r in quel momento passò l'unicorno al galoppo con le mani in tasca sono stato io il più bravo questa volta chiese il re guardandolo appena mentre passava di poco di poco rispose il re con un certo nervosismo non dovevi infilzarlo con il corno lo sai non gli ho fatto male rispose l'unicorno con non curanza e stava per scappar via quando per caso gli cadde l'occhio su Alice fece un rapido dietro fronte restò lì a guardarla per un po' con un'aria di profondo disgusto cosa è questa chiesa infine è una bambina rispose fretta piazzandosi davanti ad Alice per presentarla e aprendo le mani a ventaglio verso di lei come vuole la gesticolazione anglosassone l'abbiamo scoperta solo oggi è a grandezza naturale e viva il doppio avevo sempre creduto che fosse un mostro leggendario esclamò l'unicorno è viva sa parlare dispose fretta solennemente l'unicorno guardò Alice con occhi sognanti e disse parla ragazzina Alice non poteva fare a meno di intrespare le labbra in un sorriso mentre cominciava ma sai che anch'io ho sempre pensato che l'unicorno fosse un mostro leggendario non ne avevo mai visto uno vivo prima bene ora che ci siamo visti a vicenda disse l'unicorno se tu credi in me io crederò in te a fare fatto certo come vuoi disse Alice su tira fuori la torta bravo uomo soggiunse l'unicorno rivolgendosi al re quel tuo pane nero io non lo voglio certo certo borbottò il re e fece un senno a frette aprì la borsa sussusò svelto non questo qui c'è il fieno frette tolse dalla borsa una grossa torta e la diede ad Alice da reggere mentre lui tirava fuori un piatto e un coltello per i dolci come facesse tanta roba a star lì dentro Alice non riusciva a capirlo era come un gioco di prestigio pensò nel mentre che tutto questo succedeva si era avvicinato il leone aveva un'aria molto stanca e sonnacchiosa gli occhi semi chiusi cos'è questa disse ammiccando pigramente per indicare Alice e parlando con una voce profonda e cavernosa che assomigliava ai rintocchi di una grossa campana eh che cos'è esclamò eccitato l'unicorno non lo indovinerai mai io non ci sono riuscito il leone squadrò Alice stancamente sei animale vegetale o minerale domandò sbadigliando fra una parola e l'altra è un mostro leggendario gridò l'unicorno prima che Alice potesse aprire bocca allora distribuisci la torta mostro disse il leone sdraiandosi a terra e appoggiando il mento sulla zampa e voi due sedetevi rivolto al re all'unicorno niente scherzi con la torta eh si vedeva che il re non aveva nessuna voglia di mettersi a sedere in mezzo a quelle due grosse creature ma non c'era altro posto è adesso che dovremmo fare una bella battaglia per la corona disse l'unicorno alzando maliziosamente gli occhi verso la corona che poco ci mancava ci volasse giù dalla testa del re tanto quello si era messo a tremare la vincerai facilmente disse il leone non ne sono tanto sicuro ribatte l'unicorno ma se te le odate sode in ogni angolo della città replicò il leone rabbiosamente pronto a balzare in piedi qui il re li interruppe per impedire che il litigio degenerasse era nervosissimo e gli tremava la voce ogni angolo della città ripetè che camminata vi siete fatti siete passati dal ponte vecchio e dalla piazza del mercato la vista migliore dal ponte vecchio non ne ho idea brontolò il leone mentre si rimetteva tranquillo c'era un gran polverone e non si vedeva niente quanto ci mette il mostro a tagliare la torta alice era seduta sulla riva di un ruscelletto e tenendo il grosso piatto appoggiato sulle ginocchia segava diligentemente con il coltello è una vera provocazione disse in risposta al leone si era ormai abituata a sentirsi chiamare mostro ho già tagliato parecchie fette di torta ma si riappiccicano subito tu non sai come si tagliano le torte dello specchio osservò l'unicorno prima le distribuisci e dopo le tagli sembrava un non senso ma alice sarei obbediente si alzò in piedi e fece il giro col piatto e fu così che la torta si divisa in tre pezzi adesso la puoi tagliare disse il leone mentre alice ritornava al suo posto con il piatto vuoto ehi dico non è giusto gridò l'unicorno mentre alice si metteva a sedere con il coltello in mano non sapendo bene cosa fare il mostro ha dato al leone una fetta che è il doppio della mia lei però non ne ha tenuta neanche un po' per se stessa osservò il leone ti piace la torta mostro ma prima che alice potesse rispondere attaccarono i tamburi da dove venisse il rumore non c'era modo di capirlo sembrava fosse dappertutto nell'aria un rombo che risuonava nella testa di alice sempre più forte sempre più forte finché non le parve di essere diventata sorda con un balzo fu in piedi e saltò al di là del ruscelletto in preda al terrore e fece appena in tempo a vedere il leone e l'unicorno che si alzavano furibondi per essere stati disturbati durante la loro festa e poi cadde in ginocchio e si portò le mani alle orecchie nel vano tentativo di isolarsi da quello spaventoso strepito se il suono di questi tamburi non basterà a scacciarli dalla città pensò fra sé e sé non ci sarà mai niente che ci possa riuscire capitolo ottavo è una delle mie invenzioni poco dopo il rumore cominciò gradatamente a spegnersi finché non ci fu un silenzio di tomba e Alice rialzò il capo piuttosto allarmata non si vedeva più nessuno e la prima cosa che pensò fu che se li era sognati tutti il leone e l'unicorno e quegli strambi messaggeri anglosassoni tuttavia lì ai suoi piedi c'era ancora quel grande piatto sul quale aveva tentato di tagliare la torta non è stato un sogno dunque disse a sé stessa a meno che a meno che non facciamo tutti parte di un unico sogno speriamo che sia uno dei miei sogni e non del re rosso non mi va di appartenere al sogno di un altro continuò con un tono piuttosto risentito ho una gran voglia di andare a svegliarlo per vedere cosa succede in quel momento i suoi pensieri vennero interrotti da un gran vociare oila oila scacco e un cavaliere con un'armatura tutta rossa venne avanti al galoppo dritto verso di lei brandendo una mazza raggiunta che lebbe il cavallo si arrestò di colpo sei mia prisioniera esclamò il cavaliere e ruzzolò giù dalla sella sbigottita com'era Alice al momento prese più paura per lui che per sé stessa e lo osservò con una certa appreensione mentre rimontava in sella appena si fu ben sistemato a cavalcioni ricominciò sei mia ma qui un'altra voce attaccò a gridare oila oila scacco e Alice volse lo sguardo sorpresa verso il nuovo nemico questa volta si trattava di un cavaliere bianco che venne a mettersi al fianco di Alice e poi capitò un bolo giù dal cavallo esattamente come era capitato al cavaliere rosso rimontò in sella e poi i due cavalieri si squadrarono l'un l'altro per qualche minuto senza parlare Alice guardava ora l'uno ora l'altro piuttosto sbalordita questa prigioniera è mia esclamò infine il cavaliere rosso si ma poi sono arrivato io e l'ho liberata rispose il cavaliere bianco allora dobbiamo batterci per lei disse il cavaliere rosso e preso l'elmo era appeso alla sella e aveva la forma della testa di un cavallo se lo infilò naturalmente rispetterai le regole di combattimento osservò il cavaliere bianco mentre si infilava l'elmo anche lui le rispetto sempre rispose il cavaliere rosso e cominciarono a darsele di santa ragione con una tale furia che Alice si nascose dietro un albero per essere fuori dalla traiettoria dei colpi chissà quali sono le regole di combattimento venne da chiedersi mentre osservava il duello facendo capolino del suo nascondiglio una delle regole potrebbe essere che se un cavaliere colpisce un altro lo fa cadere di sella se invece lo manca di sella ci cade lui e un'altra regola è quella di stringere le mazze con le braccia come fanno i burattini che fracasso fanno quando cadono giù come l'intera serie degli arnesi per il fuoco quando cadono contro il parafuoco e come sono tranquilli i cavalli li lasciano cadere e risalire e loro se ne stanno immobili come se fossero dei tavolini un'altra regola di combattimento che Alice non aveva notato era evidentemente quella che si deve sempre cadere di testa e il duello si concluse con i due cavalieri che caddero a testa in giù l'uno accanto all'altro quando si rialzarono in piedi si strinsero la mano poi il cavaliere rosso rimontò in sella e ripartì al galoppo una gloriosa vittoria non ti pare disse il cavaliere bianco mentre si avvicinava a Ansante non saprai rispose Alice dubbiosa non voglio essere la prigioniera di nessuno voglio diventare una regina e lo diventerai appena avrai attraversato il prossimo ruscelletto le disse il cavaliere bianco ti scorterò attraverso il bosco ma poi dovrò tornare indietro capisci? perché è così che si conclude la mia mossa? ti sono molto grata rispose Alice vuoi che ti aiuti a togliere l'elmo? era chiaro che da solo non ce la faceva ma lei riuscì a sfilaggielo a forza di scrolloni ora si respira meglio disse il cavaliere mentre con ambo le mani si ributtava all'indietro i capelli scomposti e volgeva ad Alice il suo viso gentile e i grandi occhi miti lei pensò di non aver mai visto in tutta la sua vita un soldato così strano indossava un'armatura di latta che chiaramente non gli stava giusta e dalle spalle gli penzolava una scatoletta di legno dalla forma bislacca che era rivoltata all'ingiù col coperchio aperto Alice la guardò molto incuriosita vedo che ti piace la mia scatoletta disse il cavaliere in tono amichevole è una delle mie invenzioni serve per metterci abiti e panini imbottiti la tengo rivolta all'ingiù come vedi perché non ci piova dentro ma le cose cascano fuori osservò Alice con gentilezza non hai chiuso il coperchio lo sai? no non lo sapevo dispose il cavaliere mentre sul viso gli passava appena un'ombra di contrarietà ma allora tutta la roba è caduta fuori e senza quella roba la scatola è inservibile parlando la sciolse dai lacci e stava per buttarla via in un cespuglio quando fu come colpito da un pensiero improvviso e allora l'appese accuratamente a un albero riesce ad immaginare perché l'ho messa lì chiese ad Alice Alice scosse il capo nella speranza che le apici facciano il nido così avrò il miele ma hai già un alveare o qualcosa del genere attaccato alla sella disse Alice sì è un alveare molto buono rispose il cavaliere con un tono insoddisfatto uno dei migliori ma non c'è mai una sola ape che ci vada dentro e l'altro oggetto che vedi è una trappola per topi forse i topi tengono lontane le api oppure sono le api che tengono lontani i topi non so bene in quale direzione vada la cosa mi chiedevo infatti a cosa servisse la trappola per topi disse Alice è assai improbabile che i topi vadano sulla groppa di un cavallo non è molto probabile è vero dispose il cavaliere ma se dovesse capitare non ho voglia di vederli scorazzare dappertutto capisci soggiunse dopo una pausa è meglio essere pronti a qualunque evenienza è per questo che il cavallo ha così tante cavigliere attorno alle zampe ma a cosa servono dice Alice estremamente incuriosita a proteggerlo dai morsi degli squali rispose il cavaliere è una delle mie invenzioni ora dammi una mano a rimontare in sella ti accompagno fino in fondo al bosco a cosa serve quel piatto è un piatto di portata per le torte disse Alice teniamolo replicò il cavaliere ci tornerà utile se ci capita di trovare qualche torta aiutami a infilarlo in questa borsa l'operazione richiese parecchio tempo anche se Alice teneva bene aperta la borsa perché il cavaliere era così impacciato che ai primi due o tre tentativi per infilarci il piatto finì per cascarci dentro prima di lui ci sta a malapena disse appena il piatto fu sistemato ci sono troppi candelabri in questa borsa e l'appese alla sella la quale era già stracarica di mazzi di carote e arnesi per il fuoco e un mucchio di altre cose ti sei legata bene ai capelli soggiunse mentre si avviavano non più del solito rispose Alice sorridendo non basta gli disse preoccupato vedi qui il vento è molto forte forte come la zuppa hai inventato un sistema per impedire ai capelli di volar via si informò Alice non ancora rispose il cavaliere ma un sistema per impedire ai capelli di cadere mi piacerebbe molto sapere qual è prima prendi un bastoncino dritto disse il cavaliere poi fai in modo che i capelli vi si attorciglino attorno come si fa con gli alberi da frutta il motivo per cui i capelli cadono è che pendono in giù mentre le cose non cadono mai quando sono all'insù capisci? è un sistema di mia invenzione provalo se vuoi non sembrava un sistema troppo pratico pensò Alice e per qualche minuto camminò in silenzio mentre l'idea continuava a frullarle per il capo di tanto in tanto si doveva fermare per aiutare il povero cavaliere che non ecceleva certo nell'arte di cavalcare tutte le volte che il cavallo si fermava e che accadeva spesso lui cadeva in avanti e tutte le volte che quello ripartiva il che di solito avveniva piuttosto all'improvviso lui cadeva all'indietro per il resto tirava avanti piuttosto bene a parte un certo vezzo che aveva di cadere di tanto in tanto lateralmente e poiché di solito questo lo faceva dalla parte dove camminava Alice lei capì subito che non le conveniva stare troppo vicina al cavallo mi pare che tu non abbia molta pratica nel cavalcare si alzatò a dire Alice mentre lo aiutava a rimontare in sella dopo la sua quinta caduta il cavaliere rimase molto meravigliato da quell'affermazione forse anche un po' offeso perché mi dici una cosa simile domandò mentre si arrampicava sulla sella tenendosi aggrappato ai capelli di Alice per non cadere dall'altra parte perché chi ha fatto molta pratica non cade così spesso io ho fatto moltissima pratica disse il cavaliere con molta gravità moltissima pratica Alice non riuscì a pensare a niente di meglio che a un davvero ma lo disse il più frettolosamente possibile proseguirono per un po' in silenzio il cavaliere brontolando fra sé e sé a occhi chiusi e Alice stando sul chi vive in attesa della prossima tombola la grande arte del cavalcare attaccò improvvisamente il cavaliere a voce alta agitando il braccio destro consiste nel mantenere qui la frase finì di colpo come era cominciata poiché il cavaliere era caduto pesantemente a capofitto proprio sul sentiero dove stava camminando Alice questa volta lei si spaventò moltissimo e mentre lo aiutava a rialzarsi gli chiese ansiosamente niente di rotto spero niente di cui valga la pena di parlare rispose il cavaliere come se per lui ci fossero ossa che si potevano rompere senza problema la grande arte del cavalcare come ti stavo dicendo consiste nel mantenere l'equilibrio in modo appropriato così guarda lasciò andare la briglia e stese in fuori le braccia per mostrare ad Alice cosa intendeva e questa volta cadde piatto sulla schiena proprio sotto gli zoccoli del cavallo moltissima pratica continuò a ripetere per tutto il tempo che Alice si impiegò a rimetterlo di nuovo in piedi moltissima pratica ma è ridicolo esclamò Alice perdendo completamente la pazienza per te ci vorrebbe un cavallo di legno con le ruote ecco cosa ti ci vorrebbe è una specie che ha un passo più morbido chiese il cavaliere con il tono di chi è estremamente interessato e mentre parlava si aggrappò al collo del cavallo giusto in tempo per evitare di essere disarcionato di nuovo molto più morbido di qualsiasi cavallo vivo rispose Alice con un piccolo trillo di risatina non sufficientemente represso ne voglio uno disse il cavaliere fra sé e sé pensosamente uno o due tanti seguì un breve silenzio e poi il cavaliere riprese io ho il bernoccolo dell'inventore per esempio avrei certo notato l'ultima volta che mi hai tirato su che avevo un'aria pensosa eri piuttosto solenne disse Alice ebbene proprio in quel momento stavo inventando un modo nuovo per scavalcare un cancello vuoi che te lo spieghi? certamente rispose Alice con un tono cortese ti spiego come ci sono arrivato disse il cavaliere dunque mi sono detto il problema più grosso sono i piedi perché la testa è abbastanza alta e allora prima appoggio la testa sul punto più alto del cancello e così abbiamo la testa all'altezza giusta poi mi metto dritto portando i piedi in alto e così abbiamo anche i piedi all'altezza giusta capisci e poi sarei già bello e che sistemato no? sì penso che saresti davvero bello e che sistemato con quel sistema rispose Alice pensosamente ma non credi che sia una cosa difficile da fare non l'ho ancora provata disse il cavaliere con gravità e non te lo so dire per certo ma temo che sia davvero piuttosto difficile parve così contrariato a quell'idea che Alice si affrettò a cambiare argomento com'è buffo il tuo elmo disse allegra è anche questa una delle tue invenzioni il cavaliere guardò con fierezza l'elmo che pendeva dalla sella sì rispose ma ne ho inventato un altro ancora più bello a pan di zucchero quando me lo mettevo e mi capitava di cadere da cavallo l'elmo toccava subito terra e così facevo delle cadute brevissime capisci ma c'era il rischio di cadersi dentro naturalmente e mi successe una volta il peggio fu che mentre stavo cercando di venirne fuori arrivò l'altro cavaliere bianco e se lo mise in testa lui l'aveva scambiato per il suo il cavaliere manteneva un atteggiamento così solenne verso quella faccenda che Alice non ebbe il coraggio di mettersi a ridere ma gli avrai fatto male disse con la voce che le tremava a stargli in piedi sopra la testa dovete prenderlo a calci naturalmente spiegò il cavaliere molto serio e allora lui si tolse l'elmo ma ci vollero ore e ore perché io riuscissi a venirne fuori mi c'era incastrato dentro a presa rapida ma la presa rapida si riferisce a un altro genere di cose obiettò Alice il cavaliere scosse il capo avevo a che fare con tutti i generi di presa te l'assicuro disse mentre parlava aveva alzato le mani in preda all'eccitazione ed era immediatamente scivolato dalla sella cadendo a testa in giù dentro a un fosso profondo Alice corse sul ciglio del fosso per vedere cosa gli fosse successo quella caduta l'aveva colta piuttosto di sorpresa perché era un po' che il cavaliere stava in sella bene e ora temeva che si fosse fatto male sul serio tuttavia pur non riuscendo a vedere altro di lui che le suole delle scarpe provò un grande sollievo quando lo sentì che continuava a parlare col suo solito tono tutti i generi di presa andava ripetendo ma fu una vera sbadataggine da parte sua mettersi in testa l'elmo di un altro e col proprietario dentro per giunta come fai a continuare a parlare così tranquillamente a testa in giù gli domandò Alice mentre lo tirava fuori per i piedi e lo deponeva come un fagotto sulla sponda erbosa del fosso il cavaliere parve sorpreso dalla domanda cosa importa dove si trova il mio corpo disse la mia mente continua a lavorare in ogni caso anzi più sono a testa in giù e più mi vengono delle nuove idee guarda la cosa più intelligente che io abbia mai fatto soggiunse dopo una pausa è stata quella di inventare un nuovo tipo di dolce mentre venivano serviti i secondi in tempo perché venisse servito subito dopo chiese Alice un lavoro veloce senza dubbio no non subito dopo rispose il cavaliere con un tono lento e pensoso no certamente non subito dopo allora sarà stato per il giorno dopo perché certo non ti andavano due dolci in un pranzo solo no non per il giorno dopo ripetè il cavaliere con lo stesso tono di prima non per il giorno dopo anzi raggiunse tenendo il capocchino mentre la voce gli si faceva sempre più bassa non credo che quel dolce sia mai stato fatto anzi non credo che verrà mai fatto e tuttavia era un dolce molto intelligente da inventare quali erano gli ingredienti chiese Alice con la speranza di fargli tornare il buon umore perché il povero cavaliere aveva un'aria molto afflitta come prima cosa ci vuole della carta assorbente rispose il cavaliere con un lamento temo che non sia tanto buona non è buona da sola la interruppe lui con passione ma non ha idea di quanta differenza faccia mescolata con le altre cose come la polvere da sparo e la ceralacca ma qui ti debbo lasciare erano infatti arrivati alla fine del bosco Alice non poteva fare a meno di avere una faccia perplessa continuava a pensare al dolce sei triste disse il cavaliere con apprensione ti canto una canzone per consolarti è lunga domandò Alice perché aveva già sentito parecchie poesie quel giorno sì è lunga rispose il cavaliere ma è molto molto bella tutte le volte che la canto e qualcuno mi sta a sentire o gli vengono le lacrime agli occhi oppure oppure cosa chiese Alice perché il cavaliere aveva fatto una pausa improvvisa oppure non gli vengono il nome della canzone è occhi di merluzzo ah questo è il nome della canzone disse Alice cercando di interessarsi no non hai capito fece il cavaliere leggermente contrariato quello è come viene chiamato il nome il nome in realtà è un vecchio molto vecchio allora avrei dovuto dire eccoci che viene chiamata la canzone si corresse Alice no affatto quella è tutta un'altra faccenda la canzone è chiamata i mezzi e la maniera ma questo è soltanto come viene chiamata capisci bene e allora che cos'è la canzone chiese Alice che a questo punto era completamente flastornata ci stavo arrivando rispose il cavaliere la canzone in realtà è su un cancello era seduto e la musica è una mia invenzione così dicendo fermò il cavallo e gli lasciò andare le redini sul collo poi battendo lentamente il tempo con una mano mentre un vago sorriso gli illuminava l'insipiente viso gentile come se si beasse della musica della canzone attaccò fra tutte le strane cose che Alice vide nel suo viaggio attraverso lo specchio questa fu quella che avrebbe sempre ricordato con maggiore chiarezza anni e anni più tardi sarebbe riuscita a rivivere tutta quella scena come se fosse successa il giorno prima i miti gli occhi azzurri e il sorriso gentile del cavaliere la luce del tramonto che gli rischierava i capelli e che sfolgorava accecante sull'armatura il cavallo che brucava l'erba tranquillo le redini sciolte sul collo e dietro le ombre scure del bosco tutto questo le si impresse nella mente come un quadro mentre facendosi schermo con una mano sugli occhi si era appoggiata a un albero e guardava quella strana coppia ascoltando quasi fosse un sogno la malinconica musica della canzone ma la musica non è una sua invenzione disse fra se e se è la musica di all'amor non c'è mai fine rimase ad ascoltare stando bene attenta ma non le vennero le lacrime agli occhi da contare non c'è parecchio ti dirò ben l'accaduto c'era un vecchio molto vecchio su un cancello era seduto chiese lui che fai di bello la risposta non la taccio mi filtrò dentro al cervello come l'acqua in un setaccio vado a caccia di farfalle dentro ai campi di frumento poi le frigo nelle calle e le vendo in un momento e le vendo ai temerari che sul mar rischiano la pelle ma i miei conti tornano pari sembrano forse bagatelle io però stavo pensando che volevo verde il baffo e andavo progettando il ventaglio contro schiaffo e per dir qualcosa a quello gli ululai la mia richiesta ma tu di che fai di bello e lo picchiai forte in testa il suo dolce scigli in guagnolo è riprese qua e là quando trovo un bel rigagnolo gli do fuoco a volontà poi con ricavato fanno vaselline sopraffine per tre lire che mi danno come paga ecco il mio fine io però stavo pensando di mangiare solo carote poiché stavo dimagrando a mangiare solo le trote mille volte lo scrollai nella rabbia mia infinita cosa fai di bello urlai come campi nella vita disse gli occhi di merluzzo io li cerco ginocchioni abilmente li tagliuzzo e ne faccio dei bottoni non li vendo a prezzi cari niente oro niente argento mezza lira può bastare a comprarne fino a cento i grissini pianto il roro poto le triglie innestate può concimando al pianoro tutte le ruote cerchiate questi mezzi e la maniera che di far ricchezze io ho brindo a te e alla mia brughiera lunga vita e qui amiccò io lo udì soltanto quando completato avea lo schema di pulire sbollentando minaretti nella crema con fervor lo ringraziai per i mezzi e la maniera lo quaciamente detti e brindai lunga vita alla brughiera se ora se ora nella colla in bratto un po' come a destra il dito se la man dritta in filo al sinistro guanto ahimè se qualcosa poi mi cade grave sulla punta del pie piango perché mi sovviene di quel vecchio sconosciuto guardo mite verbo lento il capello incanutito l'occhio un poco incenerito dal dolore un po' svanito ciondolava rattrappito e metteva il suo grunito bofonchiava il suo rugito come un toro inferocito quell'estate era di sera su un cancello era seduto mentre cantava le sue ultime parole della ballata il cavaliere riprese in mano le redini e girò il cavallo per tornare indietro ormai sei arrivata pochi metri giù per il pendio disse e passato il ruscelletto diventerai regina ma ti dispiace restare qui a guardarmi mentre mi allontano aggiunse mentre Alice già si era voltata con impazienza dall'altra parte verso il punto indicatole non ci vorrà molto stai qui e quando sono arrivato a quella curva laggiù sventoli il fazzoletto credo che mi infonderà coraggio capisci? ma certo che mi fermo a guardarti disse Alice grazie mille per avermi accompagnato fino a qui e per la canzone mi è piaciuta tantissimo lo spero dispose il cavaliere con aria dubbiosa ma non hai pianto quanto avrai creduto allora si strinsero la mano e poi il cavaliere si allontanò lentamente verso la foresta non ci vorrà molto per vederlo sparire nel verde disse Alice fra sé e sé mentre lo guardava allontanarsi ed eccolo che cade la testa in giù come al solito però risale abbastanza facilmente ma così tante cose appese attorno al cavallo così lei andava parlando da sola mentre osservava il cavallo che procedeva pigramente lungo la strada con il cavaliere che ruzzolava giù prima da una parte e poi dall'altra dopo il quarto o il quinto capitombolo raggiunse la curva e allora lei gli sventolò il fazzoletto e aspettò finché non lo vide scomparire spero di avergli dato coraggio disse mentre si precipitava giù per il pendio e ora l'ultimo ruscelletto e poi sarò una regina che impressione mi fa con pochissimi balsi raggiunse il bordo del ruscelletto finalmente lottava a casella esgramò mentre spiccava il salto e si buttava andando a cadere su un prato morbido come muschio picchettato qua e là di piccole aiole fiorite oh come sono contenta di essere arrivata fin qui ma che cosa ho in testa esgramò sgomenta mentre portava le mani su qualcosa di molto pesante che le stringeva il capo con una certa pressione nemmeno mi sono accorta che qualcosa mi arrivava in testa come avrà fatto si domandava mentre prendeva la cosa fra le mani e se la toglieva e la posava in grembo per vedere cosa fosse era una corona d'oro capitolo 9 alice regina che impressione meravigliosa esclamò alice non mi sarei mai aspettata di diventare regina così presto e mi permetta di dirle una cosa vostra maestà soggiunse con un tono severo e piaceva sempre molto il gioco di rimproverarsi da sola non sta bene starsene piccamente seduta sul prato in questo modo le regine devono avere dignità allora si alzò in piedi e si mise a camminare dapprima un po' rigidamente per paura che le cadesse la corona ma poi si tranquillizzò pensando che non c'era in giro nessuno a guardarla e se è proprio vero che sono una regina conclusa mentre si rimetteva a sedere saprò come comportarmi al momento giusto le cose ormai accadevano in modo così bislacco che non si meravigliò affatto quando si ritrovò sedute attanto a lei da una parte la regina rossa e la regina bianca certo le sarebbe piaciuto chiedere loro come mai si trovavano lì ma temeva che non fosse troppo corretto tuttavia non ci sarebbe stato nulla di male pensò a chiedere se la partita era finita per favore mi potrebbe dire cominciò guardando timidamente la regina rossa parla quando sei interrogata la interruppe secca la regina ma se tutti obbedissero a questa regola replicò alicia che era sempre pronta a piccoli battibecchi e io comincio a parlare solo quando sono interrogata e l'altro aspetta che sia io a cominciare allora non ci sarà più nessuno che parla e quindi assurgo esclamò la regina non ti rendi conto piccina qui si interruppe accigliandosi e dopo averci pensato per un minuto improvvisamente cambiò argomento di conversazione cosa intendi dire con quel se è proprio vero che sono una regina che diritto hai di ritenerti tale non puoi essere una regina finché non hai passato un esame in piena regola che prima cominciamo e meglio è ho detto soltanto se si scusò la povera alicia in tono compassionevole le due regine si scambiarono un'occhiata e la regina rossa osservò con un piccolo fremito lei dice che ha detto soltanto se ma in realtà ha detto ben altro se mette la regina bianca torcendosi le mani ah ben altro proprio così non è vero disse la regina rossa rivolgendosi ad alice di sempre la verità pensa prima di parlare e trascrivi tutto subito dopo ma io non intendevo certo dire cominciò alice quando la regina rossa la interruppe con impazienza è proprio questa la cosa che non mi va a genio tu dovevi averla l'intenzione a cosa serve una bambina se non ha l'intenzione di dire quel che dice perfino in un gioco di parole c'è l'intenzione di dire qualcosa e la bambina avrà qualcosa di più di un gioco di parole spero questo non lo puoi negare neanche se ci provi con tutte e due le mani io non uso le mani per negare qualcosa obiettò alice e chi l'ha detto disse la regina rossa io ho detto che non ci riusciresti neanche se ci provassi è in quello stato d'animo disse la regina bianca per cui vorrebbe negare qualcosa soltanto non sa che cosa un temperamento maligno e dispettoso osservò la regina rossa e per un paio di minuti ci fu un silenzio imbarazzante la regina rossa ruppe il silenzio dicendo alla regina bianca ti invito alla cena di alice questa sera la regina bianca sorrise debolmente e disse e io invito a te non sapevo di avere gente a cena disse alice ma se proprio dovrà esserci una festa dovrei essere io a scegliere gli invitati noi ti abbiamo dato l'occasione di fare una festa osservò la regina rossa ma mi pare che nessuno ti abbia mai dato una lezione di buone maniere non ci sono lezioni di buone maniere rispose alice a scuola si imparano a fare i calcoli e altre cose del genere sai fare le addizioni chiese la regina bianca che cosa fa 1 più 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 1 non lo so rispose alice Ho perso il conto. Non sa fare le addizioni, la interrupe la regina rossa. Sai fare le sottrazioni? Fai 8-9. 8-9 non si può, rispose prontamente Alice, ma non sa fare le sottrazioni, concluse la regina bianca. Sai fare le divisioni? Dividi una pagnotta con un coltello. Qual è il risultato? — Suppongo, stava cominciando col dire Alice, quando la regina rossa diede la risposta al posto suo. — Pane e burro, naturalmente. Proviamo un altro calcolo di sottrazione. — Sottrai un osso al cane. Che cosa rimane? Alice ci pensò sopra. — Non rimane l'osso, naturalmente, perché l'ho preso io, e non rimane nemmeno il cane perché mi correrebbe dietro per mordermi, e non ci rimarrai nemmeno io, di certo. — Allora, secondo te, non rimarrebbe niente? chiese la regina rossa. — Penso che quella sia la risposta. — Sbagliata, come al solito, replicò la regina rossa. Rimarrebbe la pazienza del cane. — Ma non capisco. — Allora senti, esclamò la regina rossa, il cane perderebbe la pazienza, vero o no? — È vero, probabilmente, rispose Alice cautamente. — Allora, se il cane se ne va via, rimane la pazienza, esclamò la regina trionfante. Alice disse con il tono più grave che le riuscì di avere. Potrebbero andarsene via tutte e due, per strade diverse, ma non potrei fare a meno di pensare fra se e se. Ma di cosa stiamo parlando? È un orribile non senso. — Non sa fare i calcoli, per niente, dissero le due regine insieme, con grande enfasi. — E lei li sa fare i calcoli? disse Alice, rivolgendosi improvvisamente alla regina bianca. Perché non le piaceva che trovassero sempre qualcosa da ridire su di lei. La regina si sentì mancare e chiuse gli occhi. — So fare le addizioni, rispose, se mi dai abbastanza tempo, ma non riesco a fare le sottrazioni in nessun modo. — L'alfabeto lo sai, vero? chiese la regina rossa. — Ma certamente, replicò Alice. — Lo so anch'io, sussurrò la regina bianca. Lo ripeteremo insieme tante volte, vedrai. E ti voglio dire un segreto. Leggo le parole di una sola lettera. Non è strepitoso? Tuttavia non scolezzarti. Presto ci arriverai anche tu. Qui la regina rossa intervenne di nuovo. — Sai rispondere alle domande pratiche? disse. — Come si fa il pane? — Questo lo so, esclamò Alice prontamente. Si prende della farina, il fiorfiore. — Dove lo cogli il fiore? domandò la regina bianca. — In un giardino o sulle siepi? — Beh, non si coglie affatto, spiegò Alice. Si passa il setaccio. — Quale tipo di seta? — Di che colore? domandò la regina bianca. — Non devi tralasciare tutte queste cose. — Fa l'evento per rinfrescare la testa. La interruppe la regina rossa preoccupata. Ne verrà la febbre dopo tanto pensare. E si misero a far l'evento con dei mazzetti di foglie, in che lei non le pregò di smettere perché le scompigliavano i capelli. — Ora sta meglio, disse la regina rossa. — Sai le lingue straniere? Come si dice in francese? — Pirulin, pirulin, pirulera. — Pirulin, pirulin, pirulera non è una parola del nostro vocabolario, replicò Alice gravemente. — E chi l'ha detto che lo fosse? ribatte la regina rossa. Alice credette di aver trovato una via d'uscita questa volta. — Se voi mi dite a quale lingua appartiene Pirulin, pirulin, pirulera, io vi dirò come si dice in francese, esclamò Tionfante. Ma la regina rossa si drizzò sulla schiena con un'aria piuttosto altezzosa e disse — Le regine non scendono a patti. — Sarebbe meglio se le regine non facessero domande? pensò Alice fra sé e sé. — Non litighiamo, disse la regina bianca con sollecitudine. — Da che cosa è prodotto? il lampo. — Il lampo è prodotto, rispose Alice con molta decisione, perché era sicura di saperlo. — È prodotto dal tuono? — No, no, si affrettò a correggersi. — Volevo dire viceversa. — È troppo tardi per correggersi, disse la regina rossa. Una volta detta una cosa è fissata e bisogna portarne le conseguenze. — Il che mi fa venire in mente, disse la regina bianca, abbassando gli occhi e continuando a intrecciare e a sciogliere le mani nervosamente. — Che abbiamo avuto un temporale tremendo martedì scorso, voglio dire una delle ultime serie di martedì che abbiamo avuto. Alice era perplessa. — Al mio paese, osservò, abbiamo un solo giorno alla volta. La regina rossa dice — Che povero misero modo di fare le cose. Qui invece i giorni e le notti ce li prendiamo per lo più a due o tre alla volta ed inverno può anche capitare che ci facciamo cinque notti tutte insieme, per il caldo, capisci? — Vuole dire che cinque notti sono più calde di una? Si accertò a chiedere Alice. — Cinque volte più calde, evidentemente. Ma potrebbero anche essere cinque volte più fredde, sempre seguendo la stessa regola. — Proprio così, esclamò la regina rossa, cinque volte più calde e cinque volte più fredde. Così come io sono cinque volte più ricca di te e cinque volte più intelligente. Alice tirò un sospiro e ci rinunciò. — È una di quelle cose che sono in tutto e per tutto come gli indovinelli senza risposta, pensò. — L'aveva capito anche Ampti D'Amti, aggiunse la regina bianca a bassa voce, quasi come se stesse parlando fra sé e sé. Si presentò sull'uscio con un cavatappi in mano. — Cosa voleva? domandò la regina rossa. — Disse che voleva entrare, proseguì la regina bianca, perché stava cercando un ippopotamo. Purtroppo quella mattina non avevamo in casa una cosa del genere. — Di solito ce l'avete? domandò Alice sterrefatta. — Beh, solo il giovedì, rispose la regina. — Lo so perché è venuto, disse Alice. Voleva punire i pesci perché... qui la regina bianca riattaccò. Fu un temporale di quelli che ti viene paura solo a pensarci. — Non c'è alcun pericolo che si metta a pensare, disse la regina rossa. E un pezzo del tetto è volato via ed è entrato tanto di quel tuono e rotolava per tutta la stanza a pezzi così grossi e buttava giù i tavoli e tutti gli oggetti. E alla fine ero talmente terrorizzata che non ricordavo più nemmeno il mio nome. Alice pensò fra sé e sé. — Io non cercherei mai di ricordarmi il mio nome nel bel mezzo di un cataclisma. — A cosa servirebbe? Ma non lo disse a voce alta per non urtare i sentimenti della povera regina. — La maestra vostra deve scusarla, disse la regina rossa ad Alice, mentre prendeva fra le sue la mano della regina bianca e la accarezzava dolcemente. È tanto buona, ma non può fare a meno di dire delle sciocchezze, come regola generale. La regina bianca guardò timidamente Alice, la quale si rese conto che avrebbe dovuto dire qualcosa di gentile, ma sul momento non le venne in mente niente. — Vedi, lei non ha mai ricevuto un'educazione vera e propria, soggiunse la regina rossa, ma ha qualcosa di eccezionale, un gran buon carattere. Falle delle carezzine sulla testa, vedrai come sarà contenta. Ma questo era più di quanto Alice avesse il coraggio di fare. Un piccolo gesto di gentilezza, come metterle i bigodini nei capelli, può far miracoli con lei. La regina bianca tirò un profondo sospiro e appoggiò il capo sulla spalla di Alice. — Ho tanto sonno, gemette. — È stanca, povera cara, disse la regina rossa. Lisciale i capelli, prestale la tua cuffia da notte e cantale una dolce ninna nanna. — L'hanno portato con me la cuffia da notte, disse Alice, mentre cercava di obbedire alla prima indicazione. — E non conosco nessuna dolce ninna nanna. — Allora gliela dovrò cantare io, rispose la regina rossa. E cominciò. — Fai la nanna, cocina d'Alice, canta la festa e fai la nanna. Dopo la festa andremo al ballo. Noi due regine, tre con Alice. E adesso che sai le parole, aggiunse mentre appoggiava il capo sull'altra spalla di Alice, cantale con me. Anche a me è venuto sonno. Un attimo dopo entrambe le regine erano profondamente addormentate e russavano sonoramente. — Che cosa devo fare? esclamò Alice guardandosi attorno estremamente perplessa, mentre una testa rotonda, subito seguita dall'altra, le rotolavano giù dalle spalle e si posavano sul grembo come un pesante fardello. Non credo che ci sia mai stato qualcuno che abbia dovuto prendersi cura di due regine addormentate contemporaneamente. No, mai in tutta la storia d'Inghilterra. Del resto non sarebbe stato possibile perché non ci può essere più di una regina alla volta. — Su, svegliatevi, siate pesanti, aggiunse con un tono spazientito. Per tutta risposta ebbe un placido russare. Quel russare si andava facendo sempre più preciso, di minuto in minuto, e andava assomigliando sempre di più a una musica. Alla fine Alice riuscì addirittura a distinguere le parole e tese l'orecchio con tanta attenzione che quando le due grosse teste delle regine scomparvero dal suo grembo quasi non se ne accorse. Si ritrovò davanti a una porta ad arco sulla quale apparivano le parole «Regina Alice» in caratteri grandi. Ai due lati dell'arco c'erano dei tiranti di campanello, uno con la scritta «Campanello per gli ospiti» e l'altro «Campanello per la servitù». «Aspetto fino alla fine della canzone», pensò Alice. «E poi tiro il... il...» «Quale campanello devo tirare?» si domandò perché i due nomi le creavano una notevole perplessità. «Non sono un ospite» «E non sono una delle servitù». «Ce ne dovrebbe essere uno con la scritta «Regina».» Proprio in quel momento la porta si aprì, quel tanto che bastava perché ne spuntasse fuori la testa di una creatura dal becco lungo che disse «Non entra più nessuno per due settimane» e la porta venne richiusa di nuovo con un tonfo. Alice bussò e suonò il campanello in vano e a lungo, ma alla fine un vecchissimo ejemplare di rana che stava seduto sotto un albero si decisse ad alzarsi in piedi e a farsi avanti zoppicando. Portava un vestito color giallo carico e ai piedi un enorme paio di stivali. «Che succede dunque?» disse il signor rana in un sussurro rauco e basso. Alice si volse, pronta a trovare da ridire su chiunque. «Dov'è il servo che ha il compito di rispondere alla porta?» cominciò rabbiosamente. «Quale porta?» fece il signor rana. Poco mancò che Alice pestasse i piedi per terra per la rabbia che le suscitò la strascicata cantilena con cui quello parlava. «Questa porta, naturalmente!» Il signor rana contemplò la porta coi suoi grandi occhi ottusi per un minuto. Poi si avvicinò un po' di più e quel pollice la soffregò come se volesse controllare se la vernice stesse venendo via. Infine si volse a guardare Alice. «Rispondere alla porta?» ripetè. «Ma che cosa ha chiesto?» aveva una voce così rauca che Alice quasi non lo sentiva. «Non capisco cosa lei voglia dire», disse. «Secondo te che lingua parlo io?» replicò il signor rana. «Oppure sei sorda? Che cosa ti ha chiesto la porta?» «Niente», rispose Alice spazientita. «Sono io che bussavo alla porta. Non si fanno queste cose?» borbottò il signor rana. «Le dai fastidio, capisci?» Poi si accostò e col suo piedone diede un calcio alla porta. «E sarà in pace», disse, mentre ansimando e zoppicando ritornava al suo albero. «E lei lascerà in pace te, hai capito?» Fu allora che la porta si spalancò e si udì una voce squillante che cantava. Alice invita lo specchio alla festa. Lo scettro in mano, la corona in testa. «Creature tutte, chiunque voi siate, dalle tre regine siete invitate». E centinaia di voci si unirono in coro per il ritornello. Le coppe si ancolme, pronta la cena. Sul tavolo sparsi i bottoni ed avena, i topi nel caffè, i gatti nel tè. Alice, urrà! Per trenta volte tre!» Seguì poi il rumore confuso degli applausi, mentre Alice pensava fra sé. «Trenta volte tre fa novanta! Chissà se c'è qualcuno che fa il conto». Dopo un minuto si fece di nuovo silenzio e la stessa voce squillante cantò un'altra strofa. «Oh, creature dello specchio, udite! Vi concedo l'onore! Mi sentite? Di venire alla festa e prendere il tè, con la regina rossa e la bianca e me!» Poi di nuovo il coro. Colme le coppe di melassa e inchiostro, succo di frutta e sabbia a pieser vostro. Versate il vino nel violino o altrove. Novanta urrà! Moltiplicato nove! «Moltiplicato nove!» ripeté Alice disperata. «Oh, e chi lo sa fare?» Sarà meglio che entri subito. E così fece, infatti. «È un silenzio mortale!» salutò la sua apparizione. Alice lanciò un'occhiata nervosa lungo il tavolo mentre attraversava il salone e vide che c'era una cinquantina di ospiti d'ogni genere. Se erano gli animali, degli uccelli e mescolati con gli altri c'erano perfino dei fiori. «Sono contenta che siano venuti senza bisogno di dirglielo», pensò. «Non avrei mai capito quali erano le persone giuste da invitare. C'erano tre sedie a capotavola. Le regine, la rossa e la bianca vi si erano già accomodate, lasciando libera quella di mezzo». Alice si mise a sedere sulla sedia vuota e, poiché il silenzio la metteva a disagio, non vedeva l'ora che qualcuno parlasse. Fu la regina rossa a rompere il silenzio. Ti sei persa la zuppa e il pesce, disse. «Procedete con l'arrosto». E i camerieri portarono un cosciotto di montone, posandolo davanti ad Alice che lo guardò piuttosto preoccupata perché non le era mai capitato di dover affettare un arrosto prima di allora. «Ti vedo intimorita. Se permetti, ti presento a quel cosciotto di montone», disse la regina rossa. «Alice, montone, montone, Alice». Il cosciotto di montone si alzò in piedi sul piatto e fece un breve inchino ad Alice che rispose all'inchino senza sapere se dover ridere o spaventarsi. «Gradite una fetta d'arrosto», disse afferrando il coltello e la forchetta e guardando prima una regina e poi l'altra. «No, di certo», replicò la regina rossa con molta decisione. «Non è una regola del galateo tagliare a fette qualcuno che ti è appena stato presentato. Portate via l'arrosto». E i camerieri lo portarono via e poi tornarono, recando al suo posto un grande sformato di carne e frutta. «Non voglio essere presentata allo sformato, per favore», si affrettò a dichiarare Alice. «O finiremo per saltare la cena?» «Ne volete un po'?» Ma la regina rossa era imbronciata e grugnì. «Sformato, Alice!» «Alice, sformato!» «Portate via lo sformato!» E i camerieri lo portarono via così in fretta che Alice non poteva rispondere all'inchino. Tuttavia non si capiva perché dovesse essere la regina rossa l'unica a comandare. Così, per fare una prova, Alice chiamò a voce alta i camerieri. «Riportate qui lo sformato!» e lo sformato ricomparva in tavola immediatamente, come in un gioco di prestigio. Era così grosso che Alice non poteva fare a meno di sentirsi un po' intimorita, come era successo col montone. Tuttavia si sforzò di vincere la sua timidezza, tagliò una fetta di sformato e lo frì alla regina rossa. «Che impertinenza!» esclamò lo sformato. «Cosa ne diresti se io mi mettessi a tagliare te, affette, creatura?» Aveva una voce densa, untuosa, e Alice non trovò una sola parola da dirgli in risposta. Rimase immobile a guardarlo senza fiato. «Di qualcosa!» esortò la regina rossa. «E' assurdo lasciare che sia lo sformato a sostenere la conversazione!» «Ecco, vedete, ho sentito tante di quelle poesie oggi!» cominciò Alice e provò un certo timore quando si rese conto che appena lei aveva cominciato a parlare si era subito creato un silenzio mortale, mentre tutti gli occhi erano appuntati su di lei. E poi c'è qualcosa di curioso. Tutte le poesie parlavano dei pesci in un modo o nell'altro. «Lai sa perché tutti adorano i pesci da queste parti?» parlando si era rivolta alla regina rossa che le diede una risposta non del tutto adeguata. «Per quanto riguarda i pesci» disse con un gran tono lento e solenne accostando le labbra all'orecchio di Alice «la sua maestra bianca sa un bellissimo indovinello tutto in versi e tutto sui pesci. Glielo facciamo recitare?» «La sua maestra rossa è stata molto gentile a ricordarlo» disse la regina bianca nell'altro orecchio di Alice con una voce che pareva il mormoramento di una colomba «sarebbe un tale piacere» «Posso?» «La prego» dispose Alice con molta cortesia la regina bianca rise per la gioia e diede una carezza ad Alice sulla guancia poi cominciò «prima il pesce vai a pescare» «è niente anche un bimbo l'ha pescato poi lo devi anche pagare» «è niente con un soldo l'hai pagato» «ora il pesce va ben cotto» «è niente te lo cuocio in un secondo e lo stendi su un bel piatto» «e niente sul piatto era già pronto» «portamelo qua all'istante» «è un lavoro da niente e poi mi piace» «togli via il coprivivande» «è così duro non ne son capace» «il pesce è come incollato» «dal piatto si tiene il coperchio serrato» «dimmi che cos'è più bello» «scoprire il pesce o l'indovinello» «ti do un minuto per pensarci» «e poi devi dirci cos'è» disse la regina rossa «nel frattempo faremo un brindisi alla tua salute» «alla salute della regina Alice» urlò con quanto fiato aveva in corpo e tutti gli ospiti si misero subito a bere ma in che strano modo lo facevano» «certi si infilavano il bicchiere sulla testa come se fosse uno di quei cappuccetti per spegnere le candele e poi succhiavano tutto quello che gli colava giù per il viso» «altri capovolgevano le brocchie e trangugiavano il vino che traboccava dall'orlo del tavolo ce n'erano alcuni sembravano dei canguri che si erano arrampicati su fin dentro il piatto dell'arrosto e leccavano golosamente il sugo come maiali dentro il trogolo» pensò Alice «dovresti rispondere con un bel discorso di ringraziamento» disse la regina rossa guardando la corrucciata «ci pensiamo noi a sostenerti» sussurò la regina bianca mentre Alice obbediente ma un poco spaventata si alzava in piedi per fare il discorso «mille grazie» sussurrò in risposta «ma non occorre» «la cosa va fatta nel modo dovuto» disse la regina rossa con un tono molto deciso e Alice dovette sottomettersi con buona grazia e si misero a spingere in un modo e la disse in seguito raccontando alla sorella la storia della festa «si sarebbe potuto dire che volessero stritolarmi» in effetti fece una gran fatica per restare al suo posto mentre faceva il discorso le due regine la spingevano con tanta forza una da una parte e una dall'altra e stavano quasi per sollevarla in aria mi alzo mi alzo per portervi il mio ringraziamento aveva cominciato Alice e mentre stava parlando si alzò veramente di parecchi centimetri allora si aggrappò all'orlo del tavolo e riuscì a ritornare giù al suo posto «attenta a te» gridò la regina bianca afferrandola per i capelli con tutte e due le mani «sta per succedere qualcosa» e allora come raccontò in seguito Alice accadde di tutto nel giro di un minuto le candele si allungarono fino a toccare il soffitto sembravano un fascio di giunchi con in cima i fuochi artificiali quanto alle bottiglie ciascuna di loro afferrò un paio di piatti che si incollò ai fianchi come fossero ali e poi usando le forchette come gambe se ne andavano in giro svolazzando da tutte le parti sembrano proprio degli uccelli pensava Alice fra sé benché riuscisse a malapena a pensare nell'orribile confusione che si andava creando in quel momento sentì una risata rauca esplodere al suo fianco e si volse per vedere cosa stesse succedendo alla regina bianca ma al posto della regina seduto sulla sedia c'era un cosciotto di montone «Eccomi qua» gridò una voce dalla zuppiera di porcellana e Alice si rigerò ancora una volta appena in tempo per vedere la facciona bonaria della regina che le sorrideva per un attimo dall'orlo della zuppiera prima di sprofondare dentro la zuppa non c'era un minuto da perdere da parecchi ospiti giacevano dentro i piatti e il mestolo stava avanzando a gran passi lungo il tavolo diretto verso la sedia di Alice mentre irosamente le faceva segno di togliersi di mezzo «Queste sono cose che non sopporto» gridò scattando in piedi e afferrando la tovaglia con tutte e due le mani un'energica tirata e piatti vassoi ospiti e candele si fracassarono tutti insieme cadendo ai suoi piedi «Quanto a te» soggiunse volgendosi furibonda verso la regina rossa che lei considerava la causa prima di tutto quel misfatto ma la regina non era più al suo fianco si era improvvisamente rimpicciolita acquisendo le dimensioni di una bamboletta e stando in piedi sul tavolo stava allegramente girando in tondo rincorrendo lo scialle che le svolazzava dietro le spalle in qualsiasi altra occasione Alice ne sarebbe rimasta sorpresa ma in quel momento era troppo eccitata perché ci fosse qualcosa che potesse sorprenderla «Quanto a te» ripetea afferrando la piccola creatura proprio mentre stava per saltare sopra una bottiglia che era appena balzata sul tavolo «Ti darò una scrollata tale che finirai per diventare una gattina ecco cosa ti farò» Capitolo decimo La scrollata Mentre parlava la ferrò e sollevatala dal tavolo le diede una scrollata con quanta forza aveva nelle braccia La regina rossa non oppose la minima resistenza ma il viso le si fece piccolissimo e gli occhi sempre più grandi e verdi e Alice continuò a scrollarla e quella diventò sempre più piccola e poi più grassoccia e più morbida e più rotonda e... e insomma era proprio una gattina del tutto Capitolo dodicesimo Chi ha fatto il sogno? La sua rossa maestà non dovrebbe fare le fusa così rumorosamente disse Alice sfregandosi gli occhi e parlando alla gattina con un tono che era sì rispettoso ma non privo di severità mi hai svegliata da un sogno com'era bello e sari anche tu Kitty insieme a me attraverso tutto il mondo dello specchio lo sapevi micina? I gattini hanno la brutta abitudine una volta Alice aveva fatto questa osservazione di mettersi a fare le fusa sempre qualunque sia la cosa che venga detta loro se almeno facessero le fusa per dire di sì e mi agolassero per dire di no o una qualsiasi altra regola di questo genere aveva detto Alice allora si potrebbe fare un po' di conversazione ma come si fa a parlare con qualcuno se quello dice sempre la stessa cosa? in questo caso la gattina si limitò a fare le fusa era impossibile capire se intendeva rispondere sì oppure no allora Alice frugò fra i pezzi della schiacchiera sul tavolino finché non trovò la regina rossa poi si mise in ginocchio sul tappettino davanti al fuoco e mise la gattina e la regina l'una di fronte all'altra e ora Kitty esclamò battendo le mani trionfante confessa che ti eri trasformata in questa regina ma Kitty non la guardava disse quando in seguito spiegò l'intera faccenda alla sorella girava la testa dall'altra parte e fingeva di non vederla ma aveva un po' l'aria di vergognarsi e così credo che la regina rossa fosse proprio lei ti hai nella schiena dritta gli ordinò Alice con un'allegra risata e fai un inchino mentre pensi a cosa a cosa fare le fusa così guadagni tempo ricordatelo e la prese in mano e le diede un bacetto in onore del fatto che sei stata la regina rossa bucaneve coccolina mia proseguì girandosi a guardare la gattina bianca che era ancora pazientemente sottomessa alla sua toeletta quanto tempo ci vuole ancora prima che Dina abbia finito con la sua bianca maestà ecco perché eri così trasandata nel mio sogno Dina lo sai che stai martoriando una regina bianca sei poco rispettosa davvero e chissà Dina in che cosa si era trasformata continuò a cinguettare mentre si sdraiava comodamente appoggiando un gomito sul tappeto e sorreggendosi il mento con una mano per guardare le gattine dimmi un po' Dina eri tu amti d'amti eh sì penso di sì tuttavia non farne parola con le tue amiche per ora perché non ne sono del tutto sicura a proposito Kitty se sei davvero stata con me dentro il sogno c'è una cosa che ti doveva piacere tantissimo mi hanno recitato un sacco di poesie e tutte i suoi pesci vedrai domattina come ti farò contenta mentre ti fai la tua colazione io ti ripeterò il tricheco e il carpentiere e tu potrai far finta di mangiare delle ostriche Kitty ascoltami Kitty cerchiamo di capire chi ha fatto tutto questo sogno è un problema molto serio tesoro e dovresti smettere di leccarti la zampa a quel modo come se Dina non ti avesse già lavata tutta stamattina capisci Kitty posso essere stata io oppure il re rosso lui faceva parte del mio sogno naturalmente ma allora anch'io facevo parte del suo è stato il re rosso a fare il sogno Kitty tu eri sua moglie e dovresti saperlo oh Kitty aiutami a risolvere questa cosa la tua zampa può anche aspettare ma quella gattina dispettosa si mise a leccarsi l'altra zampa e fece finta di non aver sentito la domanda secondo voi chi ha fatto il sogno sotto un cielo radioso va una barca pigra indecisa indugia savanza di luglio un tardo pomeriggio affoso tre bambine rannicchiate insieme sentir vogliono la semplice storia occhi grandi lucenti orecchie tese il cielo radioso è ormai impallidito ecchi sbiaditi ormai morte memorie ora l'autunno ha ucciso quel luglio e ancora mi insegue è come un fantasma Alice viva nell'immenso cielo la puoi vedere sol con gli occhi chiusi vogliono la storia anche altri bambini ben rannicchiati allegri e stretti insieme occhi grandi lucenti e orecchie tese in un bel paese di meraviglie sognano e vivono la notte e il giorno sognano ancora mentre l'estate muore sempre portati via dalla corrente pigri indolenti in quella luce d'oro la vita che cos'è se non un sogno